Musica Buona serata, torniamo di nuovo in onda con me ultimamente ci vediamo spesso ovviamente in seguito alle frequenti partite della SPAL SPAL che oggi torna in campo al Paolo Mazza tra pochissima appunto andrà in scena SPAL Ternana ennesima partita su cui si spera di portare a casa dei punti, anzi ce n'è veramente bisogno dopo tra l'altro il solo pareggio avvenuto sabato scorso ma vi presentiamo il parterre di oggi in parte riproposto ma c'è anche da New Entry però intanto partiamo subito da Federica Taranto Buonasera Nicola, buonasera a tutti che scommetto che eri la più attesa Ciao Feder, grazie oggi che cosa percepisci? Io dico che oggi dobbiamo assolutamente portare a casa qualcosa perché se no veramente sarebbe la disfatta più totale dai insomma speriamo ci andiamo cauti siamo fiduciosi qualcosa, poi vedremo quanto allora tornano i due Max Max Foglia e Max Rizzati ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi buona serata a tutti ciao Nicola, buona serata a tutti ben ritrovato, ben ritrovato anche a Rizzati tra l'altro ecco prima di presentare l'altro ospite complimenti perché la Copparese l'altro giorno ha portato a casa un risultato utile e importante domenica, domenica sì sì è verissimo Nicola abbiamo vinto 2-0 in trasferta da Anzolavino riaprendo un po' di speranza e salvezza dato che l'ambiente iniziava ad essere un po' triste ecco anche perché è l'anno del centenario la Copparese quindi è una società, hai capito Nicola che ha compiuto cent'anni proprio quest'anno e ci teniamo a tutti i costi ecco a non retrocedere anche se sarà molto difficile c'è diciamo una speranza un po' un lumicino ma c'è ancora la possibilità matematicamente se la potete fare sì 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 quando è stato preso l'incarico ecco ti dico a fine novembre le speranze erano poche ecco il mercato non ci ha soddisfatto ecco come volevamo perché comunque eravamo disposti anche a spendere su determinati giocatori però o per determinate dinamiche o per problematiche fisiche insomma degli acquisti che volevamo fare non siamo riusciti a concludere tutto anche se però siamo molto contenti dell'acquisto che abbiamo fatto quelle Sunday Boeli che di cui abbiamo mostrato hai mostrato tu le immagini con le varie capriole domenica cioè che aveva segnato la domenica prima che hai mostrato martedì scorso va beh ha portato fortuna alla fine dei conti sì ha portato molta fortuna perché ha procurato lui entrambi i rigori che ci hanno permesso di vincere ottimo ottimo mi fa molto piacere e poi diamo il bentornato che è arrivato con l'aereo e non scherzo a Matteo Langone ciao Matteo buon pomeriggio buon pomeriggio a te Nicola buon pomeriggio a tutti gli ospiti in studio e anche ai telespettatori adesso so che la gente dirà io con l'aereo con l'aereo direttamente nel piazzale di Telestense qui fuori dopo un veloce viaggio infatti dicevo chissà se arriva per tempo sei arrivato quindi ti ringraziamo per questo senza entrare nel dettaglio tutto bene comunque viaggio tutto a posto sì sono stato a Stoccolma comunque non sono arrivato direttamente nel piazzale di Telestense sono arrivato a Bologna ieri sera tanta neve là però sono riuscito a tornare in tempo per il match ecco allora ti abbiamo messo in un studio un po' più caldo diciamo vediamo se riuscirai molto caldo se riuscirai a reggere per tutta la partita va bene allora Matteo Langone è con noi ovviamente agli altri ospiti già presentati vi ricordo che alle 19.20 come martedì scorso andrei in onda al tv giornale di Telestense quindi ci vedremo più tardi anche per quello che riguarda l'informazione locale e poi nel secondo tempo ci verrà a trovare in questo caso via Skype quindi virtualmente anche Matteo Agnelli allora fatte le dovute presentazioni in attesa che cominci la partita un po' di premesse io comincerei visto che era in collegamento con noi l'altro giorno da Max Fogli l'altro giorno l'ennesima vittoria è mancata e quindi oggi torniamo a dire quello che diciamo da tempo bisogna portare a casa dei punti l'ideale sarebbe vincere però insomma la Ternana comunque è un altro avversario potenzialmente ostico ma Nicola ci siamo giocati il discorso della legge dei grandi numeri perché ormai l'abbiamo ripetuto due o tre volte e non è andata ci siamo giocati quello delle opportunità quello della fortuna del cambio di clima devono cambiare anche il regolamento adesso per portare a casa una vittoria la domanda che ci facciamo a parte gli scherzi per sdrammatizzare una situazione che a mio avviso è drammatica sicuramente è una partita che non è da sottovalutare e neanche questa mentalità magari del gettare la spugna che può insorgere è una cosa da accantonare all'istante e bisogna cercare di portare a casa i tre punti oggi come da oggi in avanti perché saranno tutte finali da qui al termine del campionato e non ci sarà non esiste una maniera per uscirne da questa cosa anche perché le partite stringono le squadre sono tutte vicine sia davanti che dietro le squadre rischiano perché anche un Parma che è partito con i favori del pronostico per tornare in Serie A si trova ormai quasi imbottigliato nella zona retrocessione questo significa che la soglia di attenzione va mantenuta alta altissima da qui fino alla fine per tutte le squadre che sono coinvolte e anche quelle che sono vicine a essere coinvolte perché abbiamo scoperto che è veramente serve veramente poco due risultati andati male per sprofondare dove non si ipotizzava neanche di finire Allora beh insomma sì un'analisi abbastanza insomma veritiera di quello di quello che stiamo rischiando Max tu intanto vuoi aggiungere qualcosa io direi che insomma abbiamo anche qualcosina in più di due risultati andati a male ecco però sì sì no ho capito un po' il concetto che voleva dire Max però c'è anche l'altra faccia della medaglia nel senso che due risultati positivi due vittorie si permetterebbero un attimo di risalire è solo che il problema qual è che queste vittorie ma anche vittorie al singolare ma anche oramai da tanto tempo ecco per cui bisogna fare i conti un po' con la realtà la realtà però ad oggi sì di sicuro non è così rosa però dice che siamo salvi ad oggi quindi guardiamo questo bicchiere insomma mezzo pieno anziché vederlo mezzo vuoto perché comunque l'Alessandria ha preso tre gol ad Ascoli per cui di solito anche le valutazioni che vengono fatte sulla Spal vengono fatte molto diciamo sul momento ecco nel senso la Spal è in vantaggio siamo fortissimi la Spal sta perdendo adesso qua aspetto già quando partiranno i messaggi sì siamo anche una tifosoria che secondo me è molto umorale per cui mentre invece qua secondo me ci vuole tanto ragionamento tanto ragionamento e anche determinati calcoli insomma comunque la cosa la cosa positiva è appunto questo punticino di vantaggio che abbiamo su Alessandra e oggi abbiamo una partita che secondo me è durissima perché già l'andata abbiamo sofferto molto con la Ternana e Lucarelli è comunque un vecchio volupone come lo era in campo anche come me lo ricordo da attaccante e sì insomma non non sarà comunque una partita facile ma insomma dire che esistano partite facili insomma non ci sono in nessun campo in nessuna categoria tantomeno in Serie B dove il campionato si è sempre dimostrato essere equilibratissimo e con tanti ribaltoni ecco con tanti risultati anche testa a coda che hanno sempre creato grandissime sorprese allora beh insomma anche questo un'analisi abbastanza completa ecco di quello che riguarda questo pre partita volevo sentire anche da Matteo intanto tu l'altro giorno a Stoccolma hai visto qualcosa hai seguito la partita o eri completamente a digiuno di Spal no 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 io ho seguito tramite i messaggi degli amici dei miei genitori è un'applicazione che mi riferiva dei gol e ti racconto questo se ho un minuto di tempo vai pure durante la partita io ero a Uppsala che è una cittadina un'oretta nord di Stoccolma ero entrato dentro all'università che è molto carina insomma da visitare erano in corso le prove di un concerto ha segnato Pepito Rossi io ho fatto un urlo si sono interrotte le prove mi hanno detto qualcosa in svedese che io non ho capito ho ripetuto il nome di Pepito si sono messi a ridere non so cosa abbiano capito loro poi hanno ripreso le prove però la mia ragazza era con me mi ha sgridato però insomma io in quel momento ero felice poi siamo usciti il Vicenza ha pareggiato quindi io ho provato a tornare dentro ma non sono più riuscito però guarda il gol di Pepito Rossi a parte il fatto che ho visto che l'hanno commentato chiunque l'ho visto su parecchie testate anche nazionali quindi è stato veramente un gol oltre che bellissimo un gol anche molto mediatico da questo punto di vista e quindi sicuramente ha dato molta visibilità a una partita che comunque per il resto purtroppo non ha avuto quello che speravamo però insomma molto bello vede una striccione 0532 una striccione col profisso di Ferrara per identificarsi è abbastanza identificativo però Nicola ti volevo aggiungere qualcosa su Pepito Rossi che non è una notizia positiva è una notizia proprio di questi ultimissimi minuti che non è neanche indistinta oggi doveva essere quantomeno in panchina però ha fatto sapere dalla Spal con un comunicato a stampa che per un piccolo problema fisico non potrà essere neanche in panchina ecco peccato perché insomma ci aveva veramente emozionato l'altro giorno c'è deliziato ha fatto un gol è veramente era un soccolatino proprio fantastico proprio spettacolare al massimo allora vi ricordo 342 017 6235 per mandare i vostri whatsapp Federica ne è già arrivato qualcuno? sono già arrivati sono già arrivati alcuni messaggi tranquilli la regina già verrà penalizzata di due punti andare a fine stagione verrà retrocessa non hanno più un euro così proprio questo già è mazzata effettivamente si sa che ci sono dei problemi da questo punto di vista economici ciao a tutti vi seguo da Varsavia sempre forza spalda Davide da Varsavia? vabbè è ottimo mi fa piacere anzi perché so che l'altro giorno c'era stato qualche problema con lo streaming oggi abbiamo recuperato un po' tutto il pubblico legato anche al web quindi benvengano anche gli amici di Varsavia Davide sei di Ferrara proprio facci sapere che siamo curiosi quindi mandaci un altro messaggio eventualmente e approfondiamo comunque squadra in campo sta per cominciare ufficialmente Spal Ternana per cui ovviamente la seguiremo come sempre per voi ma voi stessi se come succede a molti la state guardando scriveteci mandateci i vostri pareri che siamo molto curiosi tra l'altro adesso vedremo come sarà l'andamento dei messaggi perché insomma spesso è legato all'umoralità ma è normale che sia così come dicevamo prima comunque sono curioso insomma di vedere Melchiorri se farà nuovamente un'ottima prestazione come secondo me ha fatto a Vicenza dove ha preso un pallo sfortunatissimo insomma un pallo interno che meritava senz'altro un'altra tipologia di fortuna e altre sorprese diciamo vabbè la coppia d'attacco sarà Melchiorri-Vido quindi cambia rispetto a Colombo Rossi di sabato scorso e poi viene riproposto a centrocampo crociata ecco viene confermato la difesa centrale con Vicari e Capradossi e anche Alfonso in porta Alfonso che non mi aveva troppo convinto con la regina mi è piaciuto molto di più con il Vicenza e Capradossi secondo me continua ad essere il punto di forza della nostra difesa con Vicari che insomma ultimamente ha qualche incertezza di troppo secondo me allora guardate intanto stanno arrivando vari messaggi l'amico di prima Davide ci specifica che è originario di Migliaro quindi vabbè da Migliaro a Varsavia quindi comunque felici di averti tra il nostro pubblico Davide allora c'è un messaggio di uno spettatore io ve lo giro subito così intanto iniziamo un po' animare questa puntata voglio chiedere se voi in studio ci credete davvero che la spalla si salva Matteo guarda sarei veramente così cattivo da chiedere subito a te una domanda del genere partiamo da te intanto poi arriviamo anche gli altri attenzione intanto la Ternana subito in avanti Dickman chiude in scivolata ancora la Ternana in area di rigore palla dietro tiro fuori dallo stadio praticamente dopo 40 secondi è già caldo è già caldo tu hai maggior ragione però insomma clima caldo clima caldo so che la domanda è un po' scontata quella che ci fa il nostro spettatore perché credo che nessuno si aspetti che noi diciamo no pensiamo che venga retrocesso eccetera eccetera però se vogliamo dare un'opinione insomma io sono convinto che la salvezza arriverà anche perché l'organico c'è in questo momento non c'è la squadra in senso proprio come compagine intera nei 90 minuti spesso dei blackout però però i singoli ci sono i nomi ci sono quindi secondo me alla fine si arriverà la salvezza e poi va anche detto secondo me che basta poco per uscire da questa zona da questa zona paludosa ecco basta basta veramente poco chiaro che bisogna farlo però le altre vanno veramente piano quindi intanto c'è un intervento molto duro da parte di un giocatore della Ternana centro campo l'arbitro non ammonisce neanche il giocatore della Ternana vediamo perché potrebbe ricordiamo che sempre il VAR intervento beh sì duro però non da VAR e niente dicevo che secondo me basta poco già un paio di vittorie nell'arco di poche giornate potrebbero far uscire la spalda da una zona paludosa e soprattutto ridare un po' di entusiasmo l'ambiente ce l'ha perché anche oggi mentre stavo arrivando in studio ho visto i ragazzini i bambini andare allo stadio felici e contenti certo non c'è tantissima gente anche causa l'orario infrasettimale e lavorativo e però però io ci credo insomma ormai il VAR sta diventando uno standard proprio devo dire di questi orari però sì lo so ma guarda ti dico la verità osceno per chi deve andarla a vedere invece ne parlavo la settimana scorsa scusate forse è caduto qualcosa no non è caduto il microfono dicevo in realtà esci 8 e mezza vai a cena non è poi così tagliato male da questo punto di vista per chi ama il calcio tradizionale però chi ama il calcio ecco sono d'accordo sul fatto che il calcio è tradizionale per carità sono assolutamente d'accordo con voi sentiamo invece qui in studio come ci salviamo non direi neanche se ci salviamo ho un'opinione impopolare nel senso che più che altro ho paura non è una questione di non avere fiducia o di non crederci però alla luce di quelli che sono i risultati e di come sono girate le cose io inizio ad avere paura anche perché quando la prestazione c'è stata il risultato non è arrivato esattamente come non è arrivato quando si meritava di perdere quindi quando le cose iniziano a girare male sicuramente sorge la paura io spero che di essere di essere smentito di essere subito tranquillizzato già da stasera però ce lo ripetiamo da tanto tempo e ormai più che fare delle previsioni dei proclami dei pronostici abbiamo bisogno di sbloccarci perché sono veramente ormai mesi che non si vince una partita ed è veramente importante fare il risultato e poi tornare a fare le considerazioni da capo perché ormai ce lo ripetiamo due volte a settimana neanche più una perché si gioca due volte la Spal deve vincere però al lato pratico non vince mai e questo purtroppo purtroppo è vero allora prima di dire Max Rizzati Fede ci sono altri messaggi sì c'è un messaggio attenzione alla Ternana è una squadra bipolare può farti 5 gol o prenderne 5 da Marco effettivamente diciamo quindi risultati imprevedibili da questo punto di vista ti vedevo sorridere anche quello che avevamo detto insomma che il campionato di Serie B è appunto estremamente imprevedibile in sé ecco come proprio tipologia di campionato basta anche vedere la Serie A insomma la prima contro l'ultima 2 a 2 insomma con anche la Sertana che stava vincendo ma la Serie B crea ancora più ancora maggiori sorprese ecco di solito per intenderci e qua molto molto pericoloso la Ternana ma sappiamo che anche questa sarà una partita molto difficile oggi ma a prescindere io credo che sia anche un po' livello di aspettative ecco noi ci siamo creati molto aspettative credo su Spal Regina come se fosse diciamo una finale di campionato e che la Spal dovesse vincere per forza poi la partita è stata anche una ci ha dato un po' una doccia fredda anche perché stavamo vincendo quindi anche per come era andato il primo tempo mai avremmo pensato che quella partita sarebbe poi finita 1 a 3 però sì è anche vero che è tanto tempo che non si vince un po' perché non si è giocato a dicembre per la questione Covid e tra dicembre e gennaio si è giocato un po' meno sai Max che però anche col Pordenone era una di quelle partite che si avevano in tasca e non si è portata a casa eh sì no beh in tasca insomma erano la portata erano la portata ma anche per quello che è stato il dominio territoriale della partita ai punti avrebbe sicuramente vinto la SPAL e fa male non vincere quelle partite perché si accumulano a quelle perse meritatamente e al morale da molto fastincide veramente tanto no beh infatti ma sicuramente diciamo che la nostra ci sono delle statistiche abbastanza chiare che ci vedono come ultime in classifica ecco se prendiamo le ultime mi sembra 11-12 giornate adesso non so bene di preciso ecco però tendenzialmente la nostra fortuna qual è? che comunque insomma all'inizio non siamo andati poi così male insomma qualche vittoria l'abbiamo fatta tra virgolette all'inizio vincevamo in casa perdiamo in trasferta poi abbiamo iniziato a vincere in trasferta a perdere in casa e poi abbiamo iniziato a non vincere più esatto e poi sì insomma diciamo stemperiamo un po' così insomma un dato un dato statistico che però è molto è molto negativo ecco certo e c'è da dire che però insomma ci sono squadre come Vicenza Crotone Pordenone e anche un po' Cosenza che per nostra fortuna viaggiano molto peggio di noi cioè molto peggio insomma hanno viaggiato molto peggio di noi all'inizio e noi abbiamo fatto tesoro su quello la Ternana per i colosi in avanti fammi dire Nicola la Ternana sta giocando a viso aperto vogliosa del risultato la Ternana è venuta a Ferrara per provare a vincere esattamente e speriamo che che possa farli scoprire 8 minuti si è vista sicuramente più Ternana che Spal anche al netto delle occasioni allora intanto ricordiamo quali sono le altre partite intanto siamo ancora tutti sullo 0-0 si giocano in questo momento Pordenone-Monza Cremonese-Vicenza Pisa-Parma e Alessandria-Perugia mentre invece le partite di domani sempre alle 18.30 saranno Crotone-Cosenza Benevento-Como Frosinone-Regina Lecce-Cittadella e Brescia-Ascoli intanto Fede ancora messaggi? un altro messaggio se vi dico 4-12 cosa vi viene in mente? beh è la data dell'ultima vittoria della Spal aspettavamo Natale ora non vorrei dover aspettare Pasqua per trovare un'altra vittoria da Marco questo messaggio è bello posso dare un dato statistico proprio su vai vai infatti ti avrei dato la parola Matteo a prescindere adesso quindi hai maggior ragione butta dentro tutta la statistica che vuoi è drammatica però lo premetto eh vabbè allora dal punto di vista della Spal se non dovesse arrivare oggi i tre punti sarebbe la decima partita consecutiva in casa senza vittoria sarebbe un record assoluto per quanto riguarda i biancazzurri in serie B nove partite consecutive senza vittoria ce ne sono state a cavallo di due stagioni tra l'80 81-81-82 ma in una singola stagione non ce ne sono mai state adesso potrebbe speriamo di no arrivare alla decima quindi quello sarebbe disastroso dall'altra parte c'è una Ternana che invece è in serie utile da sette partite consecutive fuori dal proprio stadio quindi diciamo che invertire la rotta in entrambi i sensi non è semplice oggi anche come diceva Max prima perché la Ternana è partita a viso aperto poi dopo voglio chiedere a Max Fogli cosa ne pensa della maglia della Ternana perché so che è un appassionato di maglia eccetera voglio capire la sua opinione sentiamolo visto che è questa maglia particolare curiosa chiaramente è un appassionato perché tutte cose di luogo non sono altro che ha un problema di microfono ah c'è un problema allora ti si stanno al microfono quindi ti rispondi tra un attimo comunque parleremo tra poco anche della maglia ma intanto torniamo ancora sulla cronaca Max intanto faccio parlare anche te quindi Max Rizzati Ternana che stiamo continuando a vedere piuttosto insidiosa questi primi dieci minuti insomma si vista solamente la Ternana ecco se dobbiamo essere sinceri non hanno avuto occasionissime anche se però sì diciamo che un paio di azioni sono state molto pericolose la Spal per il momento è racchiusa all'interno della sua metà campo e facciamo fatica a uscire insomma come era prevedibile la partita cioè io sì me l'aspettavo tosta ecco ma non pensavo all'inizio così devo dire guarda c'eravamo abituati generalmente a una Spal che cominciava in maniera diciamo dignitosa poi dopo perdeva nel tempo io spero che oggi invece ci sia un effetto diesel che magari cominci un po' rilento che si possa un po' rifare perché effettivamente sì anch'io in questi dieci minuti stiamo vedendo una Ternana abbastanza insidiosa e pericolosa per cui non ci fa stare tranquilli su 90 minuti di gioco sicuramente è una Spal sì per il momento chiusa nella sua metà campo e facciamo fatica ad uscirne ok allora intanto vi ricordo ancora quindi 3 4 2 0 17 6 2 3 5 stavamo guardando insomma vabbè ci sono problemi che stiamo cercando di risolvere ecco adesso il microfono ok quindi Max proviamo a puoi rispondere adesso a Matteo Lagone sì sì mi ricollego io le maglie fluo nel gioco del calcio non sono non le contemplo ecco fanno parte di un'epoca troppo recente e anche di altri mestieri sono cose catarin frangenti usate in altri contesti le vedo con questo romanticismo il calcio però a parte il colore della maglia io sono preoccupato per quella che è la partenza di questa partita perché vedo la Ternana tenere palla giocare anche in maniera abbastanza fluida con delle triangolazioni giocarsi pallone su pallone senza paura io confido in un'inversione dirotta speriamo bene speriamo di vedere un'inversione dirotta da questo punto di vista stavo guardando anche un po' i messaggi che stanno arrivando che state mandando allora Fede vogliamo leggere alcuni allora cambiando società è finito tutto l'incantesimo da Luca e un altro la spalla non ha gli attributi per vincere le partite perché è triste questo è un po' vabbè insomma messaggio un po' forte eh sì bravo guarda sai che lo stavo lo stavo dicendo anch'io una volta svegliati svegliati dal bel sogno e ritrovati nella vita reale è servito un cambiamento ok allora torniamo ancora con altri messaggi dicevo state comunque inviando vari forza spalla in questo momento quindi insomma diciamo che ci state credendo nella possibilità che si possa rifare in qualche modo a questo risultato vi ricordo ancora quindi 342 017 6235 mentre invece vi segnalo visto che ci chiedevate anche dettagli insomma il telegiornale va andrà in ondare 19.20 quindi tra il primo e il secondo tempo avrete la possibilità di vedere anche tutte le altre notizie di Ferrara e provincia allora come dicevo 342 017 6235 vi ricordo anche che siamo in diretta streaming sia sulla nostra app ma anche su facebook lo dico appunto per chi ci avesse chiesto l'altro giorno solo il motivo per cui non ci vedeva tutto regolare per cui ci potete seguire con regolarità allora ti abbiamo ripristinato Max adesso al 100% sei a posto sì sì e quindi possiamo riprendere regolarmente con la cronaca io farei un commentino intanto su questi primi 12 minuti abbiamo detto una SPAL un po' in difficoltà rispetto a quello che sta ci sta facendo vedere la Ternana comunque farei un giro di commenti di opinioni vabbè intanto Fogli visto che hai tu la parola ti faccio partire subito guarda in inversione di tendenza rispetto al solito dove la SPAL parte un po' più aggressiva un po' meglio in questa situazione invece abbiamo visto la Ternana partire con più pericolosità e con più piglio nel frattempo è ancora davanti ed è in area di rigore nostra seguiamo un attimo l'azione per non perdere per fortuna ripartiamo e niente stavo dicendo è una squadra che è partita a differenza delle altre volte controllando di più e subendo anche un po' più il gioco dell'avversario speriamo che questa inversione di tendenza rispetto al solito si riveli poi positivamente in termini di risultato successivamente ok Max Rizzati invece si ribadisco un po' quello che avevo detto siamo quasi al 14esimo minuto oramai e la SPAL continua a restare per il momento nella sua metà campo e niente facciamo fatica appunto ad uscire adesso speriamo c'è questa azione ma però c'è una rete vediamo se è fuori gioco il gol c'è il gol c'è con Melchiorgi però aspettiamo prima di risultare perché viene chiamato un fuori gioco il fuori gioco è stato chiamato e mi sembra anche che fosse più in là ecco il giocatore però c'è il VAR oh no no è molto molto al limite molto molto al limite dal replay al limite vediamo è partito con i tempi giusti e ha fatto anche una gran cosa sul portiere nell'uno contro uno non si è fatto raggiungere dei difensori vediamo secondo me è da rivedere sembrava più netto e invece l'arbitro dice di aspettare sono d'accordo che va vista bene c'è vista in tempo reale ti avrei dato ragione istantaneamente che sembrava proprio nel momento della partenza era lì gli ha bruciato quei due metri nella frazione di secondo possiamo intanto dimmi Matteo VAR ha tirato eccolo qua il momento VAR questa è la ce l'hai già pronto è la grafica di Telestense secondo me è buono comunque dai speriamo vediamo 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 c'è Venturato a meno che non abbia sai la spalla il sopracciglio che adesso guardano tutto Venturato ha la tensione che si taglia col coltello ma ovviamente non è che l'hanno presa subito di solito quei fuori gioco sono più immediati questo è molto deve essere millimetrico perché ormai abbiamo passato i due minuti ormai stanno giocando così la parola è gol è gol è gol è gol oh vi giuro che non ci avrei sperato pensavo che trovassero il cavillo possiamo dirlo gran gol di Melchior che salta al portiere porta in vantaggio la spalla un gol titubante possiamo dire no no ma infatti perché io quando siamo in queste circostanze poi ce lo tolano comunque tutti erano la mano alzata lui è andato tranquillo e poi ci guardiamo posso dirti che ci fosse stato Matteo lo avremmo esultato perché si sarebbe lanciato contro la tv però noi un po' più moderati abbiamo aspettato la conferma comunque possiamo dirlo va bene dopo lo facciamo urlare a distanza secondo me anche Matteo avrebbe esultato perché comunque sembrava fuori gioco palesimo ma più che altro al primo replay io ci ho creduto però dopo sì sul replay sì ma quello che ha colpito è il fatto appunto che si è proseguita l'azione tutti quanti indicavano di fermarlo sì nel senso che lui è andato avanti l'ha messa di gioco lui è fatto bene nel calcio di oggi bisogna fare così continuare l'azione e poi dopo ci si guarda successivamente assolutamente sì sì finché non ti fermano tu hai avanti allora l'ottimismo attenzione la spalla reclama un rigore l'arbitro ha detto subito di no ancora Melchiori che è scatenato che appunto l'avevamo pronunciato che ha fatto un'ottima prestazione quando era entrato a Vicenza e sta continuando perché comunque è un'era di Dio in questi minuti se l'è guadagnata la titolarità anche magari per il lavoro che ha fatto in settimana lo sta vedendo in forma lo sta vedendo bene ecco sì no anche perché considerando che purtroppo adesso faranno anche fatica secondo me un po' ad allenarsi nel senso con tutte queste partite ravvicinate ovviamente si allenano anche meno tutti assieme fa tempo ha fatto vedere il replay era un intervento molto soft gli ha appoggiato la mano sulla schiena si è lasciato cadere un po' a cercarlo però però lui c'è lui c'è appunto va un po' su tutti i palloni e comunque quello che abbiamo visto è il primo gol della Serie B di questa giornata perché sono ancora tutte ferme sullo 0-0 le altre partite quindi speriamo che porti bene attenzione la ternana in avanti un tiro deviato ed è bloccato per fortuna è stato molto smorzato il tiro da non ho visto bene quale difensore della SPAL comunque la conclusione era abbastanza botta sicura e da vicino certo allora Fede ha smorzato Fede intanto ti dico che questo lo leggo io un messaggio complimenti alla signorina c'è scritto alla signorina ecco non so chi sia grazie per la signorina beh so giustamente sì no beh vabbè leggiamo leggiamo alcuni messaggi sì allora ciao Nicola bentornati io non dico il risultato saluto tutto lo studio forza SPAL Alessandra da Feltre ok ciao Alessandra ben ritrovata intanto vi segnalo che Valotti ha fatto appena gol per il Monza ecco quindi Pordinone 0 Monza 1 ha su rigore o normale? non mi sembra che fosse su rigore perché ha segnato anche no non c'è scritto rigore ha segnato anche martedì scorso scusa colpo di testa colpo di testa ok perché anche martedì scorso ha segnato nella vittoria decisiva del Monza però su rigore ok vabbè insomma era per quello che ti chiedevo però i gol su rigore valgono come gli altri ma ci mancherebbe altro già stavamo reclamando poco fa esatto già per portare a segno questa partita ma sarebbe stato male perché siamo in vantaggio un po' sorpresa un 2 a 0 un po' anche meritatamente possiamo dire con la fiammata con la regina avevamo giocato bene avevamo iniziato bene avevamo legittimato qua invece appunto la prima volta che siamo andati avanti abbiamo fatto gol ma firmiamo di giocarle male tutti i primi tempi di finirli tutti in vantaggio ma sì sì no però è vero a me devo dire una cosa quando siamo in vantaggio troppo presto mi fa un po' paura perché poi dopo succede sempre però intanto va bene però è peggio quando siamo sotto no no per carità ce lo apprendiamo va bene così no 19esimo minuto quindi sempre 1 a 0 per la SPAL sentiamo anche un buon langone che quando pare Matteo tu stai ascoltando anche le altre partite non ho capito come facevi a sapere ma io so tutto ma non ti preoccupare tu hai sempre le fonti giornalistiche che ti fanno le soffiate so tutto prima degli altri è tutto sotto controllo va bene comunque ti lascio la parola se vuoi commentare intanto quello che è successo dal gol ad adesso ma ha avuto un paio di minuti la SPAL in cui ha trovato un po' di verve è andata in pressing adesso è tornata un po' sotto la Ternana che sta cercando di attaccare ancora in area di rigore però c'è un fallo al limite dell'area tra l'altro ho visto prima un intervento buono di Vicari in copertura poi la palla è finita in fallo intanto sta facendo rivedere il gol sì veramente millimetrico alla posizione di Melchiorri meno male poi è stato molto bravo a saltare il portiere e a concludere la rete poi a quel punto la porta era vuota molto bravo e dicevo di Vicari che probabilmente dopo questo intervento difensivo ha fatto un applauso sembrava rivolto verso la curva magari sappiamo che c'è qualche contestazione nei suoi confronti a parte dei tifosi perché insomma non sta rendendo al massimo magari c'è stato un applauso a parte dei tifosi per l'intervento e lui ha risposto sarebbe un bel gesto distensivo insomma Matteo al di là dei tuoi commenti assolutamente pertinenti mi sta dicendo dalla regia cartello VAR porta fortuna quindi ogni tanto anche se non c'è il VAR tu alzalo che magari vediamo esatto va bene lo tiri su così e poi vediamo vediamo che succede se può essere eventualmente di buon auspicio va bene Fede c'è qualche altro messaggio sì un altro messaggio come spesso Faglia ha detto l'entusiasmo meno di partita influenzano i commenti generali mancano 13 partite calmi tutti palla al centro Mauro il podista ah ok che forse ho capito chi è Mauro il podista ciao Mauro allora quindi vabbè qua ormai è una grande famiglia anche tra gli spettatori essendo un podista è abituato alle tratte lunghe non che io sia un podista non che io sia un podista ovviamente infatti infatti il podista lo vede lontano il traguardo giustamente sta con i piedi per terra però bisogna condirci anche un po' per corso dimmi Matteo scusa Nicola volevo solo informarti che ha segnato l'Alessandria questa non è una buona notizia però non voglio rubarti il lavoro quindi lo lascio dire a te non avete sentito niente a me vai Nicola vai quindi faccio finta di niente Resetto però è una notizia che non mi piace no anzi la lascio dire a te se vuoi dirci anche chi ha segnato così a questo punto Mantovani colpo di testa su assist di Casarini va bene grazie al ventesimo contro il Perugia la ringrazio buon Langone grazie mille quindi di questo aggiornamento allora intanto guardate che vedete quando vi dico quando dicevate poi lo dicevano anche voi l'entusiasmo appena viene un gol messaggi messaggio che dice quest'anno la Spal giocherà in playoff forza Spal ah beh oh cioè non ci farebbe schifo ci mancherebbe altro però avrei voluto leggerlo cinque minuti fa questo messaggio se è mai arrivato sarebbe bello portare il match fino a luglio no no ma per carità va benissimo magari lo facciamo anche in spiaggia l'Io delle Nazioni guarda se metto a disposizione casa e un ombrellone in spiaggia bravo quindi qui la dico e qui la butto lì va bene va bene allora intanto altri messaggi che sono arrivati saluto Davide Daberra che dice questa è la Spal che vogliamo vedere insomma vabbè è così un po' un po' per tutti e speriamo di vederla così a lungo fino al novantesimo e oltre Nicola poi questa è la Spal che vogliamo vedere ovvero in vantaggio sì vabbè sai che poi a fin dei conti è quello che interessa è quello che interessa maggiormente perché poi sì vabbè ok noi la raccontiamo ma non è che possiamo più di tanto farla visualizzare a chi ci sta guardando insomma ecco per cui è importante vedere che c'è questo vantaggio vabbè comunque sempre 1-0 diciamo tra Spal e Ternana siamo al ventiduesimo quindi partita ancora assolutamente lunga vabbè vi lascio ancora continuare a commentare se vuoi ripartire tu Max Rizzati a questo punto sì c'è la Ternana adesso in avanti però c'è un uomo a terra non si è capito se si riprenderà con un fallo o con una rimessa e soprattutto per chi però forse c'è anche un cartellino direi forse per Capradossi l'entrata è bella dura l'entrata dura di Capradossi che è stata sanzionata anche con il cartellino giallo effettivamente però a me piace molto come giocatore secondo me è stato un buon acquisto Capradossi per quanto riguarda il pacchetto difensivo e adesso c'è appunto quindi una punizione piuttosto insidiosa in favore della Ternana che scodillerà la palla in mezzo al campo cioè al centro dell'area volevo dire non esce il portiere e la palla finisce sul fondo quindi bene così con nulla di fatto quindi Alfonso potrà ribattere credo che appoggi direttamente a Vicari sì infatti partiamo dall'area piccola a impostare sono sempre un po' questa costruzione dal basso che fa un po' paura queste costruzioni dal basso da quando si possono fare hanno portato secondo me più danni che vantaggi infatti ha già la palla la Ternana se non ci hanno i difensori con i piedi per fare la costruzione dal basso io sono per l'impostazione vecchio stampo con rinvio e ce ne hanno poche squadre diciamo i difensori con i piedi rischiano quelle di serie A che sono capaci punto adesso Zalberato si ci mente in un gioco di prestigio che però lo porta a perdere il pallone e quindi ancora la Ternana che hai noi che riparte verso la nostra metà campo però insomma diciamo che comunque la Spal secondo me ha impostato oggi Venturato una partita d'attesa perché comunque a me sembra abbastanza chiaro l'atteggiamento della squadra della Spal Allora Max ti interrompo perché dobbiamo andare in pubblicità però prima di andare in pubblicità leggiamo un messaggio a Fed e poi le risposte arriveranno subito dopo Se rimaniamo in Serie B come pensate che verrà impostata la squadra da Tacopina da Chetti Va bene Chetti ti rispondiamo dopo rimani con noi e tra poco ancora in diretta Torniamo in diretta risultato invariato per adesso per quello che riguarda Spal e Ternana invece il Monza era doppiato quindi Pordenone 0 Monza 2 Alessandria Perugia sempre 1-0 mentre ancora sullo 0-0 Monese Vicenza e Pisa Parma vedo che siete scatenati con i messaggi tra poco ne leggeremo altri comunque visto che c'erano Angie e Kik che ci chiedevano dove è finito il Missing in Action Matteo ce l'avremo nel secondo tempo sarà in collegamento con noi direttamente dalla sua Renazzo ormai possiamo dire tanto ha detto tutte le puntate sappiamo che è da Renazzo quindi Matteo ci verrà a trovare più tardi c'è stato un corner molto pericoloso da parte della Ternana che però abbiamo sventato vabbè comunque insomma l'importante è che il risultato sia ancora quello sì anche se però continuano queste punizioni questi traversoni ecco da parte della Ternana dove anche in questo caso ce la caviamo con un calcio d'angolo ha sventato Vicari Alfonso non riesce a trattenere la palla anche perché non era la sua portata non ha nessuna colpa a portare in questo caso e quindi si riparterà con un altro calcio d'angolo da parte della Ternana con Capone insomma continuano questi calci d'angolo e questi traversoni della squadra vestita di giallo di giallo fluo diciamo oggi ho provato questo corner a metterla la palla fuori area forse è uno schema che però fortunatamente per noi non va a buon fine ho provato un tiro dalla distanza ma con pessimo esito ma dico che poi è anche riduttivo dire soltanto la maglia giallo fluo cioè c'è anche questa strisciata davanti ha una strisciata rossa e verde che la rende ancora più fluo in un certo senso per cui anche ancora più imbarazzante eh vabbè infatti io non volevo usare questo termine però insomma vabbè comunque trettesimo minuto da qualche secondo quindi siamo a un terzo della partita sempre Spal 1 Ternana 0 vedo che ci sono ancora diversi messaggi Federica se hai qualche messaggio lo possiamo leggere ciao Nicola saluto te Federica e gli opinionisti in studio sono contento che siamo in vantaggio però come al solito lasciamo il risultato in bilico bisogna fare il secondo gol datemi retta tornare alla vittoria di vitale importanza speriamo bene in un risultato positivo della Spal Andrea da Ferrara forza Spal sempre nel cuore grazie grazie Andrea beh insomma ovviamente tutti speriamo di si specificherei che anche se andassimo sul 2 a 0 non è che la partita sarebbe finita no certo però sai è ovvio che uno più gol fa e più tendenzialmente mette tasselli ma sai già vedere la Spal che fa due reti non è così abituale quindi insomma l'importante intanto è mettere la segno tu dici già sbloccare questo tabù ma insomma sicuramente andare sul 2 a 0 sarebbe un obiettivo raggiunto importante diciamo ci sarebbe un po' più tranquilli però insomma ecco le partite sono sempre lunghe però insomma ce lo auguriamo di andare sul 2 a 0 non l'avremo anche 5 non farebbero schifo non l'avremo legittimato ecco insomma un doppio vantaggio ci dobbiamo essere comunque ci dobbiamo essere onesti però onesti sul dire che comunque è stata una partita molto attendista della Spal giocata sulle ripartenze e con delle fiammate offensive che però sono state pericolose perché anche in occasioni successive al gol la Spal si è comunque dimostrata viva vediamo nel frattempo una conclusione pericolosissima che viene deviata in calcio d'angolo di ceria credo ah no di crociata di crociata di crociata che credo che non sia anche neanche con il suo piede ha tirato tra l'altro un bel tiro al volo ha calciato veramente bene con personalità eh sì ha calciato veramente bene gran parata gran parata sì gran parata e questa la possiamo annoverare tra le occasioni importanti di la Spal assolutamente perché credo che magari se non ci arrivava al portiere potrebbe essere un pallo gol un pallo gol tanto ancora spalla in avanti col calcio d'angolo sempre di crociata viene deviata e forse sarà ancora calcio d'angolo anzi a quanto meno noi ci abbiamo provato a rimettarla verso il calcio d'angolo però l'arbitro non è dello stesso avviso e si ripartirà quindi con una rimessa dal fondo da parte della Ternana sì e sono d'accordo che l'atteggiamento della spalla è piuttosto evidente l'indicazione ecco di un atteggiamento attendista appunto attendiamo la squadra allenata da Cristiano Lucarelli e poi cerchiamo di ripartire anche se adesso insomma recuperiamo palla con Capradossi che la gira su Celia e insomma sembra che stiamo provando anche di impostare un po' il gioco adesso cosa che non sarebbe male ancora in avanti attenzione attenzione crociata che la rimette in mezzo anticipato forse con chiede rigore la spalla e calcio di rigore è fantastico calcio di rigore per la spalla questa volta c'è calcio di rigore questa volta c'è attenzione faccia vedere Langone giustamente questo ci arriva da casa Festival VAR grazie questa volta non si può togliere è qua proprio all'arga all'arga l'abbraccio all'arga l'abbraccio di quel tanto che è fatale per un passo di rigore è rigore non si può non dare è rigore questo è rigore adesso vediamo ovviamente discussione ovviamente da parte vabbè dopo Vicenza è meglio attendere dopo quello che è capitato io su chi non sto dicendo nulla su chi batterà rigore ma intanto intanto aspettiamo l'ufficialità esatto perché dopo Vicenza non voglio credere che non voglio credere che un rigore del genere non venga assegnato poteva avere anche una sua logica quello di Vicenza insomma proprio un po' forzata però direi che appunto c'è già venturato teso a livelli apocalittici è capibile è un gesso vivente è capibile però non poteva non essere confermato questo rigore quando è stata una grossa ingenuità secondo me del difensore della Ternale 35esimo rigore per la squadra tensione è mille comunque vanno a disturbare anche il giocatore che sta per battere che rischia di essere ammonito fatte Mancosu attimi senza parole siamo senza parole perché siamo tutti in attesa vedo che anche da casa state mandando dei messaggi però li leggiamo dopo per cui rimaniamo tutti in attesa di vedere vediamo Mancosu si per gol 2-0 grazie a tutti ci siamo ci siamo rigore imparabile rigore alto rigore alto senza parole senza parole io ho avuto paura quando l'ho visto alzare esatto mi sembrava che si alzasse un po' troppo ha portato fortuna quel cartello ma stiamo scherzando Matteo mi raccomando ecco alzalo in continuazione anche quando sta portando fortuna cioè va bene comunque portare altri quattro la prossima volta fai delle fotocopie le tecchiamo qua davanti questo fu poi lo vendo su ebay festival bar giustamente ricola per tornare sulla cronaca rigore totalmente imparabile forte che spiazza il portiere alto impossibile per i migliori portieri al mondo da intercettare una conclusione del genere una grossa ingenuità appunto da parte del giocatore della Ternana che è anche una pronuncia cioè che è abbastanza impronunciabile coach Soupies dovrebbe essere greco dal Ilias Kotsupies Kotsupies e insomma sì il rigore io credo che sia netto perché comunque proprio ingenuamente salta e allarga il braccio in modo appunto attenzione la Ternana che esce e comunque ragazzi ringraziamo anche Olivieri del Perugia che ha portato sulla parità diciamo la partita quindi Alessandria Perugia in questo momento uno a uno quindi diciamo che la classifica in questo istante non sarebbe niente male perché la Spala sarebbe a 27 punti l'Alessandria a 24 e un po' alla volta si tornerebbe un po' ad avvicinarsi alla parte comunque Ternana pericolosa con un tiro pericoloso proprio di Mazzocchi e adesso c'è un calcio di punizione dalla Ternana da fuori aria ed è stato ammonito anche Celia punizione sì comunque piuttosto distante però credo oltre i 30 metri ecco saremo sui 35 anche direi come distanza per me è anche qualcosa meno sai perché un paio di metri dopo il limite dell'area ho sempre paura di questi calci piattati ancora attimi di tensione è una partita con tanti momenti diciamo altro l'altro è una parte dell'altra sì non c'è che ci sarà un po' di recupero già nel primo tempo sicuramente perché già anche prima avevamo perso del tempo c'è stato un doppio vare che comunque è dato il nostro vantaggio ecco però comunque due episodi sacrosanti il fuorigioco era fuorigioco e il rigore era rigore il fuorigioco è matematico ecco non puoi contestare o c'è o non c'è ecco allora vediamo un attimo la barriera la conclusione c'era calcio d'angolo per la Ternana che vuole chiudere in attacco Pettinari ha battuto la calcio di polizia che è stato respinto dalla nostra barriera dopodiché ha provato a tirare nuovamente in porta e lo rivediamo ancora più si rivede più appunto appare evidente l'ingenuità e come appare anche molto bello il rigore segnato da Mancosu imparabile assolutamente perché si è infilato l'incrocio dei paldi spiazzando poi tra l'altro il portiere vabbè comunque ragazzi 2-0 direi risultato ampiamente soddisfacente se dovesse essere confermato e insomma dovessimo andare già nella pausa tra il primo e il secondo tempo negli spogliatoi con questo risultato diciamo che ci fa ben sperare anche per quello che sarà vedo che stanno arrivando ancora tanti forza Spal quindi a grandi linee insomma devo dire che il pubblico da casa ci sta seguendo con entusiasmo ebbè vorrei vedere ebbè ci mancherebbe altro insomma ecco per cui dopo dopo sì ci sono tanti generici forza Spal ce la facciamo non c'è nulla di particolare però insomma tanti messaggi comunque positivi no ma positivi anche perché che noi ci troviamo nessuno che chiede di cambiare l'allenatore insomma devo dire un iter abbastanza interessante una normalità che ci piace un iter insolito un iter insolito un iter insolito però va bene così va bene allora trentanovesimo sei minuti più il recupero che secondo noi sarà almeno di un paio di minuti forse anche qualcosa di più Matteo so che prima tra l'altro tu sei arrivato da poco più di mezz'ora e hai già il pubblico che la clac che ti guardava lì mentre eri in diretta non so se avete commentato insieme questi gol della Spal io ho un ospite che non si vede in questo momento perché non è inquadrato però è qui di fianco a me continua a parlare quindi ho difficoltà ma tu non considerala considerala noi l'ospite è felice oppure sta pensando ad altre squadre l'ospite sta commentando quello che diciamo comunque no è felice non si può pensare ad un'altra squadra in questo momento lui soprattutto non può pensare ad un'altra squadra visto che ha perso in casa 2-0 contro il Sassuolo ma non diciamo quale squadra c'è qualcun altro qui dentro non ti posso dire chi che sognava il sorpasso e non è arrivato però non mi ricordo l'altra squadra cosa ha fatto col Sassuolo e quante partite ha di distacco ancora la Ternani in avanti cross in mezzo colpo di testa viene sventato però il tiro in questo momento fuori pericolosa la conclusione dobbiamo finire il primo tempo sul 2-0 possiamo dirlo chiaramente senza tanti fronzoli chiudere in vantaggio anche tre a questo punto dato che parlavamo del secondo è arrivato il primo non ci lo aspettavamo il secondo è arrivato così c'era qualche messaggio Fede non mi ricordo sì abbiamo un altro messaggio allora ho capito alla Spal con il Vard hanno rigore ogni due falli di mano da Marco ok vabbè ciao Marco intanto grazie diciamo che sono due falli differenti ecco quello di Vicenza e quello di oggi insomma quello di oggi è abbastanza netto quello di Vicenza lascia molto rammarico soprattutto perché mancavano due minuti alla fine e avrebbe sancito probabilmente il ritorno alla vittoria della Spal che così non è stato ecco però o si tagliava il braccio o il giocatore del Vicenza oppure la vedo la vedo dura ecco come potesse non prendere la sua mano comunque sì insomma però insomma pensiamo oggi cerchiamo di essere ottimisti giorno palindromo oggi anche poi Nicola tu voglio farti la domanda però Max che tu la Spal la vedi spesso sempre praticamente come noi sì a meno che non ci siano questioni lavorative il leader di questa squadra possiamo dire che Mancosu è diventato il leader della squadra sì no ma secondo me ha tutte le caratteristiche per esserlo Mancosu nel senso che poi magari avesse fatto delle no dico lo è diventato perché a inizio stagione era un po' altalenante però per quelle che sono state le ultime prestazioni è diventato il trascinatore della squadra stavo proprio confermando questo che magari inizio stagione ha fatto delle prestazioni anche che ci hanno magari un po' deluso oppure al di sotto delle aspettative perché comunque su un giocatore di Mancosu le aspettative sono alte invece adesso insomma sembrava anche che dovesse partire sembrava già quasi tutto fatto per la sua partenza è rimasto anche un po' a sorpresa mia onestamente perché pensavo che il suo trasferimento poi tra l'altro doveva andare in Serie A per cui fosse già cosa fatta è rimasto sono stato molto contento di questo non per il rigore che ha segnato oggi perché comunque rigori a volte no dico appunto perché noi che possiamo basare le nostre valutazioni sui gol o meno insomma cioè proprio sulla prestazione ma anche sulla qualità e sull'impronta che può dare un giocatore di questo tipo alla squadra ecco anche perché comunque è un uomo importante ecco di personalità e gli uomini i giocatori di personalità poi ti fanno crescere anche gli altri soprattutto quelli più giovani infatti mi è piaciuto che è andato anche sul dischetto lui sicuro nonostante l'ultimo rigore lo avesse sbagliato doveva doveva farlo è andato con personalità ha tirato un rigore importante perché l'ha messo ha scelto una conclusione non la più semplice ragazzi scusate ma devo chiedere scusa a Ketty che mi riprovera che dice ma come aspettavo la risposta sulla domanda di prima la pubblicità poi ti rispondiamo era se rimaniamo in Serie B come pensate che verrà impostata la squadra da Tacopina ma penso che te lo stavo per dire poi mi ha fatto il secondo gol poi è venuto a fare il rigore la tacche avanza sto diventando un po' sclerotico se volete rispondere vi lascio sempre io sono sintetico dipende dal budget e dalle intenzioni io mi agganzo allora dicendo che a prescindere dal budget che secondo me comunque Tacopina ha dimostrato che qualche soldo da tirare fuori c'è a prescindere poi insomma non sto a giudicare il mercato di gennaio perché è un mercato durissimo dove è sempre è difficile diciamo acquistare giocatori importanti perché di solito chi ce li ha se li tiene magari li dà via a fine stagione per cui ed è partito anche in ritardo aggiungo anche questo c'è nel senso il mercato della Spal quello estivo era partito in ritardo per la cessione societaria insomma da parte dei Colombarini a Tacopina che si è finalizzata poi solamente quest'anno cioè a inizio 2022 per cui io credo che comunque le intenzioni saranno sono le migliori insomma di riguardo a Tacopina perché sarà molto importante come concludiamo adesso questo campionato perché comunque mancando ancora 13 giornate 13 partite la strada è ancora lunga è ancora un po' presto pensare al mercato però io credo che comunque se e come e come mi auguro e come penso che così mi ricollego anche alla domanda di prima la Spal abbia tutte le capacità per restare in Serie B insomma io credo che comunque Tacopina vorrà fare una squadra importante anche perché comunque le dichiarazioni che ha fatto dopo Spal Regina Nicola sono state farlo importante scusa Max con cartellino giallo intervento su Mancoso su una ripartenza stava attaccando la Ternana la spalla è ripartita benissimo con un triangolo stava entrando in area di rigore quasi per slancio ed è stato fermato Mancoso con un intervento da dietro punito anche con il cartellino giallo si è punito lo ha travolto completamente ed è una punizione interessante anche se un pochino distante e ciò che è interessante è che c'è solo minuto di recupero appunto stai dicendo minuto di recupero e poi stavo almeno due o tre mettiamo la punizione quindi tiriamo la punizione finisce e la finiamo qua signori meglio di così infiliamo la punizione e fischiamo la fine del primo tempo dai Matteo allora te faccio rispondere dopo ancora così che ti rimane in vita con il suo messaggio per più tranche va bene intanto va bene intanto attendiamo di vedere l'esito della punizione che volutamente temporeggia vabbè certo almeno così battiamo e finiamo finiamo il primo tempo ecco ma che vada 2-0 per noi vediamo se ci sarà una conclusione di prima sì probabilmente qua siamo ancora è una posizione anche da esposito qua siamo su 35 metri invece vediamo se tirerà forte crediamoci finta di Celia sì Celia non si è capito se la volesse toccare o meno parte esposito ribattuto dovrebbe fischiare in teoria finisce il primo tempo qui vediamo se ci sarà un'altra Aspal vuole palesemente la fine del primo tempo per non far ribartire la torna esatto sì sì giusto per tenere giusto questo giro palla per cercare di concludere il primo tempo però insomma attenzione proviamo l'ultima palla del primo tempo potrebbe metterla dentro però a questo punto perché non provare anche appunto già che ci siamo così come è nato l'1-0 da una casualità quasi siamo in area di rigore anche perché potrebbe buttarla dentro zanellato e niente ancora però attenzione l'occasione è pericolosissima sembrava un torello potevamo calciare tre passaggi prima però è stato comunque bello una bella azione è stata una bellissima l'azione che ha portato due minuti però a quelli di recupero e direi che in questo momento è finito però è un peccato perché poteva poteva essere poteva nascere qualcosa non so qua se poi c'era il fuorigioco qua probabilmente è sempre stata dovuta essere dovuta essere controllata dal VAR comunque Merchiorri apre bene poi proprio per crociata per Mancosu però Mancosu tira alto però fortunatamente non ha tirato alto rigore allora io devo interrompere qui perché c'è qualcos'altro non so cosa ci sia in palinsesto lo sa Matteo Langone sì assolutamente devo dare la linea a Luca Veronesi per tutti gli aggiornamenti sulle notizie di oggi quindi Luca a te per il telegiornale e torniamo in onda grazie dunque a Luca Veronesi torniamo in onda dicevo dopo che la partita è già ripresa da tre minuti sempre Spalter-Nana sempre 2-0 vi ricordo intanto dagli altri campi non ci sono aggiornamenti quindi il Monza sta vincendo 2-0 contro il Pordenone mentre 1-1 tra Alessandria e Perugia 0-0 tra Cremonese-Vicenza e Pisa-Parma allora tra poco tra l'altro vi dico ci siamo anche dimenticati di comunicarlo in regia però insomma più tardi avremo in collegamento anche Matteo Agnelli quindi sarà con noi via Skype mentre invece ridò il benvenuto a chi è con noi quindi Federica Taranto Max Rizzati Max Fogli e Matteo Langone di nuovo buona serata a tutti e niente ragazzi che dire torniamo sulla cronaca della partita ecco bravo fai rivedere VAR mi raccomando non c'entra niente in questo momento il VAR però no beh potrebbe centrare invece perché c'è un intervento molto brutto a centro campo da parte del giocatore della Ternana gamba alta che arriva sul petto addirittura va bene sono entrambi scivolata sul petto di esposito cartellino giallo per quel greco impronunciabile i giocatori della SPAL chiedono il rosso almeno chiedono la visione al VAR però l'arbitro sembra no aver deciso per il giallo si riparte con una punizione per la SPAL è solo cartellino giallo graziato forse in questo momento vabbè comunque insomma devo dire che già un risultato del genere sarebbe più che soddisfacente speriamo perlomeno in un mantenimento poi eventualmente se dovesse arrivare anche il terzo gol schifo non fa allora ecco tra un attimo avremo con noi Matteo Agnelli perché me lo vedo già alle mie spalle in questo momento quindi appena sarà disponibile possiamo salutare anche lui subito che altro sono curioso di sapere se eccolo lì ciao Matteo buonasera ciao Nicola buonasera a tutti allora ti dico intanto ti vedo sorridente capisco benissimo però ti dico già che già in 2-3 mi hanno chiesto se avrai urlato anche mentre eri a casa per questi due gol avrà fatto 2-3 capriole ma guarda ti dico è una bellissima gioia vedere la SPA segnare mamma mia ma stasera Vido ragazzi insegna calcio già l'asset per Mecchiori adesso è una bellissima azione no no sto vedendo la SPA più bella negli ultimi due mesi adesso ovvio è presto per parlare però al primo tempo mi è piaciuto tantissimo ecco però finché dici negli ultimi due mesi giochi facile diciamo ecco perché sono due mesi e mezzo sono due mesi che non vinciamo ragazzi era il 4 dicembre che non vinciamo appunto due mesi e mezzo eh dico quindi non è che ci vuole si gioca facile con i paragoni insomma vabbè comunque siamo al cinquantesimo minuto allora intanto vi ricordo ancora 342-017-6235 per i vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare dunque c'è il nostro amico tra l'altro Oscar del Lago di Garda fedelissimo che quando può viene a vedere la SPA la Ferrara ovviamente dice dai SPA due gol sentiti in auto che gusto e poi dice un abbraccio a tutti Matteo compreso che si è appena unito da Oscar Lago di Garda Ovest specifica sempre va bene grazie Oscar altro fedelissimo dunque della SPA dunque dicevamo cinquantesimo minuto quindi SPA ripresa da 5 minuti e insomma ragazzi però la Ternana continua a essere un po' pericolosa appunto abbiamo fatto una bella azione come l'ha sottolineato anche Matteo che si è appena collegato con noi è solo che diciamo che il predominio comunque tra virgolette il pallino del gioco continua ad essere la Ternana adesso c'è un intervento che credo che sia estremamente falloso su Melchiorri e quantomeno sarà un cartellino quanto meno giallo per il giocatore della Ternana proviamo a rimanere a terra per posticipare il più possibile il cartellino o per far riflettere l'arbitro sul colore penso che sarà un giallo sì però perché è stato scomposto però allo stesso tempo poteva nascerne un'occasione importante no è proietti era un po' lontano diciamo per essere considerato un fallo ipoteticamente da rosso non era non era chiarazione da gol non era neanche ultimo uomo l'ha un po' salvato questo ecco però direi che l'intervento era un po' al limite ecco il giallo quanto minimo ecco adesso c'è via che ricordiamo anche lui ammonito comunque c'è da dire che la spalla non ha fatto cambi non abbiamo cambiato nessuno in questo fine primo tempo credo anche giustamente siamo anche lenti un po' in generale nei cambi quindi vedremo come saranno spalmati nell'arco del secondo tempo però sì effettivamente ancora nessuna nessun cambiamento della squadra che comunque sta rendendo ecco poi spalla in avanti infatti poi quando vinci poi anche certe giocate che magari non fai inizio di proporre corangolo corangolo c'è la spalla che sta cercando il terzo eh beh giustamente ah sì importante l'appetito viene mangiando come si dice ma perché anche Crociata mi sembra che abbia preso più fiducia ecco anche anche nei mezzi insomma cioè credo che sia conoscenza di avere degli ottimi mezzi di Crociata però quello che intendo dire è che poi quando vinci quando sei in vantaggio insomma che c'è quindi questa energia appunto positiva di ottimismo che si respira diventano anche più facili ecco certe giocate curva ovest carichissima in questo momento hanno inquadrato la curva ovest che sta molto tifando poi tra l'altro la spalla sta attaccando proprio sotto la curva ovest e adesso un'altra conclusione si divido che sembrava potesse essere anche più pericolosa tiro tutto sommato c'era i limiti del fallo però all'intervento quello che teneva il pallone e siamo anche un po' più angolata la conclusione invece sì era una conclusione abbastanza centrale tutto sommato e neanche troppo forte va bene allora intanto poi facciamo il giro con tutti i vari protagonisti che abbiamo questa sera Federica c'è qualche altro messaggio? allora sì se la SPAL vince porto fuori a cena la suocera ciao da Sergio vabbè perché no perché c'è qualcosa di male a portare fuori no insomma ti auguriamo di portare fuori la suocera è un luogo comune sottinteso verso la suocera è vero è vero vabbè comunque insomma però sì mi sembrava un certo fiorito da parte sua anche se c'era una punta così di sarcasmo però Sergio noi ti auguriamo vivamente anzi già prenota così andiamo sul tranquillo allora da questo punto di vista vabbè torniamo un po' adesso ragazzi stavo pensando che già era difficile in studio Max Max poi adesso Matteo Matteo quindi vi devo chiamare per cognome come a scuola come a scuola te la sei complicata proprio è un po' è un po' complesso vabbè ripartiamo da Langone io ormai Matteo ti considero Lango Lovar di Telestense a questo punto Lango Lovar Lango Lovar che tristezza vabbè queste battute poi me le annoto dopo te le tengo da parte è come dire che il signore che porta fuori la suocera a capire se poi la va anche a riprendere comunque perché non ha specificato effettivamente vabbè comunque suocera a parte non voglio sapere se tu porti fuori suocere o altro Matteo piuttosto invece torniamo a commentare questa spalla appunto a inizio di ripresa già dieci minuti abbiamo visto insomma che comunque anche la Tarnana sta cercando un po' di reggere comunque ti lascio commentare questa partita devo dire che è una situazione un po' nuova per la spalla trovarsi in vantaggio di due gol dopo un tempo c'è un po' di c'è da capire come gestirà questo secondo tempo per il momento la partita è sulla falsariga del primo nel senso che la Tarnana cerca di attaccare la spalla quando può tenta di essere pericolosa in questo momento chiede un fallo laterale ma non lo tiene la spalla quindi diciamo che sarà interessante anche capire esatto cosa può aver detto venturato nell'intervallo cioè se provare a gestire però il rischio è sempre quello di abbassarsi troppo oppure provare a cercare magari eventualmente il terzo gol con più calma chiaramente e continuare a tenere la Tarnana almeno un po' più bassa ecco in questo momento c'è Vido che controlla il pallone tenta di andarsene niente da fare quindi sulla tre quarti recupera la palla Proietti della Tarnana però la spalla è tutta chiusa dietro la Tarnana non riesce a trovare sbocca in questo momento prova il lancio lungo e finisce il campo finisce anche lo stadio e quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo per Alfonso allora sentiamo che si dice invece dal tifo da Renazzo tanto Matteo nel tuo caso possiamo dirti Matteo da Renazzo perché ormai tutti sanno benissimo non dico dove vivi proprio come residenza però insomma il paese è quello comunque dopo Ferruccio Lamborghini diciamo Matteo Agnelli esatto esatto appunto intanto dici a che minuto sei così capiamo se sei in ritardo o meno con noi sono il minuto 56 e 8 secondi è un po' indietro è sempre indietro perché usa un'altra piattaforma certo vabbè è così comunque sia in ogni caso Matteo ti lascio commentare anche te questi primi minuti da cui siamo tornati in campo perché insomma ok grande esaltazione per questo 2 a 0 però bisogna anche mantenerlo bisogna mantenere la prestazione di prima ma sì la Tarnana mi sembra che stia provando a riaprire la partita noi ovviamente ci tocchiamo ogni parte del corpo speriamo di no ha messo solo anche Parti Pilo che secondo me è un giocatore fortissimo la SPAL deve gestire ma anche provare a fare il terzo perché queste partite sono sempre difficilissime io guarda ti dico tutto sommato sto vedendo una bella SPAL l'ordinata mi sta piacendo molto Crociata che ha ricevuto tante critiche in passato ma Crociata è un giocatore che ha giocato in categoria penso a Crotone a Empoli da protagonista però guarda oltre a Vido che ho già menzionato e Mancoso che ormai è il leader assoluto di questa squadra Melchiorri è davvero tanta roba questa sera il signor Colombo se vuole riprendersi il posto deve darsi una bella svegliata perché Melchiorri è molto ma molto meglio in questione ma molto concordo ok allora qui concordate diciamo dai due schermi che ho alle mie spalle sentiamo qui in studio invece i numeri non mentono mai quindi Colombo ormai in un periodo dove è un po' fuori forma anche forse mentalmente ha accusato un po' il colpo delle prime prestazioni non brillanti e l'allenatore lo ha fatto accomodare gradualmente in panchina sempre di più la sua opportunità l'ha avuta sabato scorso non l'ha sfruttata quindi avanti con chi merita di giocare certo beh siamo anche in un momento in cui giochiamo ogni tre giorni il turnover ci sta ecco nel senso notiamo che ci sono sempre 4-5 variazioni nelle formazioni ma un po' di tutte le squadre di Serie B ecco per forza di cose perché giocando con questa intensità credo che sia poi necessario non ti alleni tanto giochi sempre per cui è fondamentale avere tanti ricambi e per quanto riguarda Colombo sono d'accordo che sia in un momento di difficoltà questo è evidente però dobbiamo cercare di non perderlo perché è un ragazzo che ha dimostrato di avere delle qualità delle caratteristiche davvero impressionanti ha fatto tantissimi ha fatto diversi gol insomma a inizio stagione è in un periodo di appannamento come lo è tutta la spalla essendo un giovane quindi è anche difficile insomma chiedergli di trainare lui la squadra cosa che tra l'altro ha fatto comunque nelle prestazioni di inizio anno e io come ho detto anche in inizio puntata Melchiori in questo momento sta giocando veramente bene insomma è un'ira di Dio fondamentalmente come lo è stata Vicenza anche oggi perché comunque entra un po' in tutte le azioni ha fatto un ottimo gol in cui ha scartato il portiere entra in tutte le situazioni pericolose ha fatto prendere il cartellino giallo insomma quando era lanciato a rete anche adesso inizia il secondo tempo è una spina nel fianco nelle difese avversarie in questo momento per cui merita assolutamente di giocare Melchiori anche se comunque Melchiori e Colombo hanno dimostrato anche di poter giocare assieme Allora Fede intanto vediamo se ci sono altri messaggi arrivati Ciao Nicola oggi è una giornata particolare dal punto di vista della numerologia la data fatta di una serie di due 22.02.2022 rappresentano il cambiamento da oggi in poi la SPAL cambierà marcia le vostre fan grazie Gabriella e Rianna bene le salutiamo l'abbiamo parlato prima che oggi appunto è una data palindroma per cui effettivamente sono giornate un po' che vengono considerate tendenzialmente di evoluzione di cambiamenti è che palindroma anche per la Ternana quindi la palindroma per tutti esatto certo che per loro effettivamente magari si aspettavano di arrivare qui con no però anche gli esoterici sostengono Nicola che in queste giornate insomma bisogna cercare molto di riflettere sui propri obiettivi perché poi si può avere una spinta più importante ok mi stai ispirando sei appassionato di esoterismo di numerologia no non particolarmente però mi interessano adesso io dovete sapere che ogni passione che trovo delle persone che vengono in studio puoi trackle per altri programmi ma allora potranno anche questi Nicola fagli fare l'oroscopo a Rizzati ma infatti voglio arrivare a questo l'oroscopo di Rizzati no ecco su quello non credo su quello non credo no nel senso e poi ho detto una curiosità sulla data palindrome di oggi no ma ci mancherebbe però no sull'oroscopo non ci credo va bene perché l'oroscopo allora è uguale per tutti per tutti i dodici d'accordo nel senso ci sono dodici categorie di persone che la vita è uguale funziona uguale vabbè insomma anche se però sono furbi quelli che lo fanno in modo generico golla 3 a 0 spal vido vido super gol super gol diamo il tempo che passano 15 secondi e poi vediamo anche Matteo Agnelli esultare Matteo facci la reaction non aveva visto niente non aveva visto niente non aveva visto niente non aveva visto niente ma neanche noi neanche io e te ricordo sì è vero adesso l'ho visto grazie ma io ci speravo in video te l'avevo detto Nicola te lo dico subito dimmi questa è l'ultima volta che vengo via Skype perché le pareti spoglierate non le faccio più va bene così va bene così 3 a 0 tanta roba guarda veramente ma ragazzi ma 3 gol di fila da quanto tempo però quel cartello veramente sta portando fortuna non diciamo niente no davvero ragazzi cioè 3 gol un 3 a 0 da quanto tempo non avveniva ci sono il 3 a 2 col Vicenza ma paleolitico 3 a 2 però c'era il 5 a 0 col Pordenone ma giocò in 10 praticamente tutta la partita il Pordenone inizio iniziano comunque grande assist di Dickman e bellissima appunto la zampata di Vido per il 3 a 0 della spalla bellissimo sì beh Vido ragazzi assist e gol una serata super per il ragazzo beh a qualità questo poi Venturato lo conosce bene diciamo anche che siamo anche stati fortunati stasera attenzione voglio dire una cosa la Salernana la Ternana arriva a Ferrara senza gli uomini più forti quindi questo cosa vuol dire che ogni tanto gira bene anche noi e siamo stati bravi ad approfittare oh ma anche Donnarumma e Falletti sono tanta roba quei due lì allora intanto scusate perché stanno arrivando tanti messaggi devo dire che è un po' impazzita la messaggeria del resto mi fa piacere ci mancherebbe altro c'è tanto mi sto distraendo anche con i vostri commenti vabbè ne leggo uno io così veloce che dice ma vincendole tutte fino alla fine andiamo ai playoff la palla è tonda mai dire mai ragazzi vinciamone tre e tiriamo le somme ragazzi qua secondo me se arriva il quarto gol siamo anche quasi pronti per la Serie A secondo me andrebbero diluiti diciamo nelle domeniche qua c'è un entusiasmo già da filo Serie A devo dire in questo momento vabbè del resto effettivamente è sempre bello vincere 3 a 0 ma quando sei anche a digiuno da tanto tempo di una vittoria poi di una vittoria così netta come a questo punto speriamo possa veramente consolidarsi effettivamente posso capire l'entusiasmo ci mancava un po' questo non siamo più abituati non siamo più abituati ci mancava e quindi questo ci darà sicuramente molta energia e lo si vede anche dai messaggi che arrivano da casa continuate così 342 0-17 6-2-3-5 poi vi ricordo ancora che torneremo a vederci sabato per mercoledì prossimo se non continua questo turnover anche settimanale delle varie partite comunque anche il Monza Nicola è 3-0 in casa del Pordenone sta vincendo e ha fatto gol ancora Valotti 4-0 altro gol adesso altro gol quindi del Monza del Monza sì esatto perché stavo dicendo come no 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 va bene 3-0 perché dovete sapere io a volte spesso guardo i messaggi sento 4-0 dove 4-0 no e poi stiamo facendo vedere che ripete il gol per cui che avrebbero potuto anche un piccolo colpo vabbè insomma stiamo andando avanti in parallelo e quindi intanto oh finalmente torno a scriverci la nostra di Rimpettaia che ricordiamo è la nostra spettatrice che vive più vicina allo stadio di tutti dice che gioia ragazzi la curva esplosa da quanto tempo non capitava è splendido grande giornata grande spalla la vostra di Rimpettaia che vi segue sempre con tanto affetto grazie ragazzi cara di Rimpettaia grazie mille poi insomma prima o poi se ti andrà ci ricollegheremo ancora così magari ci fai un po' ci dai le spoilerate su quello che senti dallo stadio ed è sempre stata una cosa che mi ha emozionato il fatto di pensare che c'è chi vive accanto allo stadio e quindi anche se non vede la partita però un po' la vive ecco dal punto di vista emotivo ecco diciamo così intanto un po' di cambi vedo doppio cambio nella spalla entra Luca Mora ed esce Zanellato quindi non cambia fondamentalmente niente per quanto riguarda il ruolo ricoperto da entrambi e poi ho visto che è entrato Meccariello al posto di Celia cambio azzeccato perché Celia ha monito ed esce Mancosu che sicuramente ha fatto una buona partita ed entra Dariva che secondo me è un giocatore davvero interessante questo Dariva che io farei spesso giocare di più e che in realtà abbiamo visto poco fondamentalmente ma cambi che secondo voi che cosa significano cioè che cosa a cosa sono cambi tendenzialmente dove vengono sono stati rispettati i ruoli di che è uscito anche se però Mancosu sappiamo quant'è offensivo voglio capire se mette crociate insomma dietro le due punte se l'ha spostato oppure se magari perché comunque appunto Dariva e Mora sono giocatori che possono garantire una maggiore fase difensiva ecco ma ci sta insomma voglio dire vinciamo 3-0 non è che dobbiamo chissà ambire sì comunque credo che abbia spostato crociate effettivamente al posto di Mancosu dietro le due punte per cui l'assetto della spalla rimane inalterato fondamentalmente attenzione che il Pordenone ha crociato le distanze quindi Pordenone 1 Monza 4 ma soprattutto ha segnato il Perugia quindi Alessandria 1 Perugia 2 questo è la notizia questo è la notizia va bene Fede ci sono dei messaggi leggiamo qualche messaggio sì che bel regalo che mi sta facendo la mia squadra del cuore del momento che domani è il mio compleanno Paola ah auguri Paola e beh un bel regalo per tutti però anche per te immagino ha maggior ragione e pensare che la Ternana ha insegnato il calcio a Guardiola un altro Ferrarese che vive a Parma spero che sabato castigherete ancora una volta gli odiati crociati ciao da Paola uh addirittura e quindi vive ciao Paola speriamo di castigarli però non so come sia vivere a Parma chiaramente se dovesse arrivare a questa vittoria andare ad affrontare il Parma sulle ali dell'entusiasmo può anche magari far bene certo la cosa più positiva di questo momento è che stanno passando i minuti e siamo ancora a 3-0 esatto vedere il counter dei minuti che avanza e il risultato che rimane uguale mi fa già felice così beh sì il risultato è sempre migliorato col passare dei minuti oggi non possiamo non possiamo di certo lamentarci va bene allora intanto stavo continuando a guardare un po' tutto quello che state scrivendo siete veramente carichissimi del resto insomma è normale che sia così ancora 20 minuti anzi 20 minuti abbondanti volevo chiedere al Matteo Agnelli in questo caso visto che insomma sei sempre emotivamente negli ultimi 20 minuti molto preso però nelle ultime partite insomma hai ripreso in maniera negativa che cosa stai provando in questo momento Matteo? ma tipo non so quando ci provi da tanto tempo con una ragazza e ti scrive l'SMS ok usciamo ti rilasci un attimo però finché non esci c'è sempre stai sempre sul chivalac comunque finché non sale in macchina che si è di fianco è sempre un attimo di paura ecco finché non arriva non si sa mai anche se sembra una cosa fatta questo lo aggiungiamo al libro questo lo aggiungiamo al libro no detto questo mamma mia no sono abbastanza tranquillo perché voi essendo avanti avrei l'avvertimento del gol loro diciamo quindi sono abbastanza tranquillo per quello ma io sto vedendo una barra a spalla barra a spalla che mi sta piacendo parecchio e abbiamo criticato cioè ho criticato venturato le scorse partite quest'oggi devo fargli complimenti perché ha cambiato quattro uomini rispetto a Vicenza e secondo me li ha cambiati molto bene e anche a livello mentale ho visto una squadra guerrita che non vedevo da tempo poi ti dico anche che prima ho sentito che avete parlato un po' del rigore perché io ti torno su questa cosa per me il rigore che non c'è andato a Vicenza rimango nella mia idea che è scandaloso che quello è il rigore perché se io vedo il rigore che danno Barcellona contro Napoli in Coppa UEFA Europa League quello lì è tre volte il rigore cioè con la mano tocca il pallone tu mi devi dare quel rigore perché se noi vinciamo con il Vicenza e poi vinciamo oggi non dico che siamo quasi già a posto ma abbiamo già prenotato un ombrellone per due mesi invece che per tutta la stagione siamo già abbastanza tranquilli capisci? certo senti intanto mentre stavi parlando ho trovato un messaggio per te Agnelli se aspetti un sms tanto giovani queste ragazze non sono buon gustaio vabbè basta ok chiaro finita lì un fermo conclusione importante ecco della Ternana torniamo sul calcio la Ternana la palla esce di poco però è una Ternana che ancora ancora ci crede e non timidamente prova a costruire qualcosa nonostante il dominio territoriale sia della Spal che è anche in vantaggio sta facendo la partita chiaramente forte anche del triplo vantaggio però attenzione perché mancano comunque 20 minuti più recupero e non dobbiamo abbassare l'asticella dell'attenzione è assolutamente perché anche se insomma ci sono questi tre gol di vantaggio che ci mettono abbastanza tranquilli però insomma è sempre meglio comunque sono comunque 20 minuti non dico che 20 minuti possa cambiare il mondo ma anche sì volendo quindi l'importante è cercare di serbare ma lì in avanti 4-0 4-0 grande 4-0 di crociata questa è andata questo però bisognerà vedere il fuorigioco primo gol stagionale perché secondo me dici forse gli era già fischiato l'ha già annullato sì palla per Melchiorri di prima sembrerebbe sì fuorigioco poi crociata in area di rigore incrocia sì sì è fuorigioco sono già ripartiti non dalla metà campo ma hanno battuto la punizione del fuorigioco mi ha un po' spiazzato perché generalmente Sky è un po' restia a mettere il risultato aggiornato finché non lo danno aveva messo subito 4-0 quindi pensavo che fosse comunque si si l'ha dato subito infatti è già tornata indietro mancava il cartello VAR si è sempre lì se non c'è il cartello VAR alzalo un attimo anche se adesso non c'è niente così alla prossima azione comunque verrà ecco mi raccomando questo diventa un feticcio di match per cui assolutamente da tenere lo appendiamo ecco allora intanto abbiamo Franco da Bologna che è un altro nostro fedelissimo che nella stessa scorsa faceva la grigliata dice questa volta i magoni li do al gatto forza Spal ecco effettivamente ci aveva raccontato di una grigliata un po' rovinata sette giorni fa invece questa griglia questa sera Franco eventualmente così ancora tutti i martedì ma è lui no ma non so se la sta facendo i martedì quelli fini ho ancora la cronologia dei messaggi che diceva sono fiducioso eccetera eccetera sto preparando una grigliata di pesce spero di mangiarla col sorriso eh vedi mi ricordavo della gatta è vero ragazzo che mangia il pesce fra settimana eh non so Franco facci sapere poi invitaci una volta eventualmente insomma veniamo volentieri anche a Bologna che è sempre un piacere settantatresimo minuto 3-0 sempre tra spalle Ternana e comunque sia beh insomma stiamo comunque continuando a vedere comunque una spalla che ci sta provando eh anche se il gol è stato annullato non siamo ancora rimissi che è una cosa molto importante ma siamo anzi propositivi in attacco cercando al quarto gol che abbiamo trovato anche con Crociata che è stato comunque correttamente annullato che adesso non hanno fatto vedere con le dovute proporzioni e le dovute linee insomma si è crociata forse o meno al di là insomma dei difensori presumiamo di sì insomma affidiamoci alla tecnologia che ci ha aiutato quantomeno per i primi due gol e niente mancano 16 minuti e la Ternana comunque non si è ancora demoralizzata appunto la squadra appunto di Terni presenta un po' il carattere del suo allenatore è una squadra che comunque tende a non mollare mai e speriamo che comunque giustamente anche niente da aggiungere perché comunque la Ternana sta facendo un buon campionato ecco poco sopra di noi però diciamo che per le aspettative di salvezza è una squadra neopromossa la Ternana ricordiamolo ha fatto un fraseggio ottimo e arriva in aree adesso vediamo se riuscirà a concludere bravo Crociata a ribattere di testa attenzione c'è 3 a 1 3 a 1 Ternana che va a riaprire la partita però c'è stata una protesta per un gioco pericoloso su Crociata c'è stata una gamba alta su Crociata che ha colpito di testa però è stata sanzionata ecco qua adesso rivediamolo cioè qua si rivede proprio qua su Crociata probabilmente sarebbe sanzionabile perché poi il fuorigioco mi sembra che non ci sia perché alzano tutti la mano non sarebbe uno scandalo sanzionabile però con una gamba così alzata vicina al viso si sono visti annullati dei gol in altre circostanze eh sì sì sono d'accordo anche se era girato dall'altra parte non lo so però diciamo che se l'arbitro è lì e non lo fischia stiamo stiamo a vedere se magari il VAR lo conferma le proteste ci sono comunque sì no comunque non è stato ancora convalidato il gol fino a che non si batte da centrocampo esatto l'alternata sta facendo un doppio sarebbe importante l'alternata sta facendo un doppio cambio sarebbe importante credo che anche la spada adesso che torrà a so un quarto d'ora più recupero è tanto tempo entra per alto a posto di Cappone vediamo io sono esce Melchiorri questo gol siamo comunque al 75esimo quindi insomma credo che comunque il margine sia ancora però effettivamente si ti riapre un po' la partita io Nicola con due gol di vantaggio un quarto d'ora più recupero avrei paura ok soprattutto quando viene preso soprattutto quando viene subito insomma ora qua stiamo facendo rivedere intanto l'offside di Crociata adesso con le giuste linee e effettivamente è buono è buono mentre invece è stato convalidato il gol della Ternana margine di due gol di vantaggio ancora direi che è assolutamente buono però bisogna cercare di non cedere esatto è un peccato perché potremmo trovarci 4-0 e invece ci troviamo 3-1 però lasciami dire Max per me è meritato comunque il 3-1 al netto della partita nel senso che la Ternana sicuramente ha subito un bottino attenzione attenzione no no sicca clamorosamente il tiro perché non era non era col suo piede ha tirato di destro Colombo lui che ha un mancino ha avuto un po' fretta anche di calciare ma era era nella posizione ideale è un peccato perché era un altro match point questo per la spalla si poteva chiudere però si la ciabattata ha strozzato un po' il tiro la ciabattata è strozzata con il destro dato che lui è un mancino puro Fede c'è della tensione anche da casa? allora si c'è anche un messaggio per Matteo per quale di Mattei? è giusto Agnelli allora se dovesse scrivere un libro Matteo Agnelli dovrebbe essere sulla sua vita amorosa intitolarlo le conquiste amorose di Matteo Agnelli e Andrea da Ferrara quante pagine avrebbe Matteo? ma un paio di righe ci prendiamo attenzione rischio clamorosamente il 3 a 2 la Ternana e c'è calcio d'angolo non ho capito Alfonso se ha qualche responsabilità su questo incertimento no qua è stato bravo invece è stato bravo a prenderlo a sbanacciarla però l'ha rimessa in gioco c'è andata benissimo beh però ha dovuto sbanacciarla ecco è stato bravo a buttarlo di lato perché ci salviamo in calcio d'angolo era posizionato bene il difensore questa volta diamogli ne atto crampi per Capradossi intanto però vabbè sono minuti che passano secondi che passano sono un po' i crampi del facciamo finire la partita sì esatto sì però abbiamo ancora 12 minuti più recupero quindi io voglio però insomma bisogna ancora giocarsela non è questione di solo di temporeggia è la Ternana che sta spingendo in attacco adesso sai che però quel gol della Ternana mi ha rimesso un po' d'agitazione tutto quello che non avremmo voluto vedere era quel gol del 3 a 1 un quarto d'ora e poi questo rischio pesante mai dare per acquisito un risultato no no non è stato dato per acquisito comunque insomma meglio essere 3 a 1 insomma che 1 a 3 che 1 a 3 perché una settimana faranno 1 a 3 sparriggine ricordiamoci allora direi che a questo punto ci prendiamo l'ultima pausa pubblicitaria quindi rimanete con noi e poi fino alla fine della partita fino alla fine a soffrire con voi signori torniamo col sorriso 4 a 1 allora intanto facciamo vedere il cartello porta fortuna subito eccolo lì a prescindere VAR anche quando non c'è allora raccontiamo quello che è successo i due max ah Nicola c'è stato un cross dalla sinistra ed è arrivato da Riva con un tiro al volo che ha fulminato il portiere che praticamente si è lasciato cadere all'indietro perché non ha neanche visto partire il tiro praticamente in superiorità numerica perché c'è da dire esatto è stato espulso di Akite nella Ternana e poi un assist al bacio di Luca Mora certo dalla sinistra con tiro al volo di da Riva appunto uno dei nuovi entrati che ha ribadito in rete per cui direi che adesso mancano 6 minuti e mezzo la pratica ma che bello vedere 4-1 quasi archiviata giuro vedere 4-1 è una roba mi fa venire brividi sentiamo anche Langone poi così lasciamo il tempo a Matteo Agnelli di vedere un po' in ritardo il gol il replay tu arrivi tra poco dimmi Matteo Langone invece adesso no gran gol di da Riva veramente grande assist di Luca Mora di sinistro un cross perfetto sul secondo palo Luca Mora tra l'altro è stato falciato da Diachite era lui che è stato falciato da Diachite per il secondo cartellino giallo adesso c'è una punizione dal limite dell'area dallo spicchio dell'area grande per la Ternana che comunque sostenuta dai suoi tifosi che sono presenti allo stadio perché si vedono dietro la porta della curva est palla verso il fondo a vuoto Alfonso poi riesce a liberare la Spal ancora un po' di suspense in questo finale però mancano in effetti sei minuti sono veramente pochi ecco per provare anche perché la Ternana si un paio di conclusioni ma poi altro non ha non ha prodotto quindi per il momento va bene così tra l'altro l'ultimo precedente a Ferrara Spal contro la Ternana chiaramente 4 gol 4 a 0 era il 23 dicembre 2016 quell'anno poi la Spal vinse il campionato quindi diciamo che quando viene a Ferrara la Ternana di solito le prende e le prende tante allora beh insomma comunque devo dire oggi ci sta emozionando sentiamo anche Matteo Agnelli Matteo 4 a 1 intanto te ne sei mai aspettato un risultato del genere ero ottimista visto che comunque come dicevamo anche nelle scorse puntate per la legge dei grandi numeri prima o poi avremmo vinto era da settembre che noi vincevamo in casa la Ternana arrivava molto rimareggiata quindi oh se non vincevamo stasera veramente potevamo veramente disperarsi no ma comunque sono contento perché la squadra comunque ha giocato benissimo mi ha detto tanto la squadra stasera a centrocampo mi sono piaciuti tutti davvero crociata anche lui una gran partita anche Mora entra bene da Riva trova il secondo gol stagionale dopo quello il Benevento da Riva poi ragazzi scuola atalanta è una garanzia adesso bisogna ripartire da questa vittoria possiamo dire mancano cinque minuti dai 4 a 1 bisogna ripartire dall'entusiasmo e provare a fare bene a Parma il Parma ha proprio perso dalla Ternana qualche turno fa quindi possiamo farlo anche noi il Parma è una grande squadra ma è in caduta libera la Spa magari è in salita chissà il caso è sempre imprevedibile speriamo bene intanto questa Sparta c'era tanta roba tanta roba allora Fede prima di darti la parola con un paio di messaggi ne leggo però uno io bellissimo certo pare che a Terni domani Sofì Marceau torni a girare il tempo delle pere complimenti niente male questo messaggio allora leggiamone altri che sono arrivati allora che vincere che perda gli ultimi 20 minuti di una partita della Spal sono come quando la maestra decideva di interrogare quelli di tensione effettivamente è vero vabbè insomma ci sono degli altri sì ce n'è un altro sentire l'urlo della curva e poi avere la conferma da parte vostra del gol che volere di più grazie mille ancora ragazzi ancora la vostra di rimpettaia ma cara di rimpettaia ti mandiamo noi un bacio no è bello sapere come dicevamo prima che c'è qualcuno che sente quello che sta accadendo dalla curva ecco quello potremmo raccontarlo effettivamente dentro lo stadio no ma fuori ognuno a casa sua fa quello che vuole giustamente per cui è una che non molla però Nicola eh sì nonostante il 4-1 sotto ci prova sta prendendo la partita con la giusta mentalità quella di lottare fino all'ultimo e di provarci nonostante ormai sia proibitivo farlo in dieci recuperare tre gol in tre minuti più recupero comunque l'orgoglio c'è della squadra ed è una cosa che sarebbe importante avere una mentalità per la la mentalità vincente anche nella sconfitta comunque veramente oggi c'è un parallelo col Monza devo dire tra noi e il Monza super contropiede Colombo entra in area vediamo se sbaglia clamorosamente proprio il cross e finisce addirittura in fallo laterale brutta prestazione di Colombo non mi è piaciuto per niente si è anche giocato poco però si effettivamente ha sbagliato un gol importante anche se non era sul suo piede e adesso questo attraversone è totalmente errato ora c'è un altro amico che dice fate i complimenti al telespettatore che aveva previsto una ternana che poteva o stravincere o straperdere effettivamente prendere 5 gol o farli adesso il 5 non ci siamo arrivati 5 gol in totale però mettendo anche quello di crociata è vero siamo quasi a 5 ottimo intervento difensivo perché la ternana ha rischiato ma effettivamente come è stato detto la ternana è una squadra importante che ha vinto anche a Parma effettivamente non era una partita assolutamente facile per niente questa anche perché poi quando non vincere due mesi e mezzo voglio vedere qual è la partita facile che ti viene assolutamente qual è la partita facile che puoi etichettare come tale vediamo poi quale sarà anche l'entità del recupero se verrà considerata la partita come finita e verrà fischiata alla fine al novantesimo o poco più o se verrà considerata ancora giocabile verrà dato il recupero effettivo credo che qualche minuto verrà dato comunque il nostro amico Oscar dice nessuna critica ha avventurato oggi questo è un bravo allenatore ricordatelo Oscar hai ragione però come abbiamo detto varie volte diciamo che si tende a essere umorali quando si è nel corso di una partita quindi se si vince è tutto bello se si perde è tutto il bravo allenatore è quello che vince è vero sì sì per carità bisogna usare più la ragione che l'istinto ecco però capisco che quando magari perdi pareggi perdi pareggi diventa difficile dire ragioniamo in mira certo certo comunque dai manca un minuto alla fine dei tempi regolamentari poi vedremo quanto recupero verrà dato però insomma io diciamo colgo la tensione che a volte arriva da fogli che effettivamente effettivamente vi ha rischiato però Alfonso dai devo dire che oggi anche lui un paio di interventi è stato un po' incerto onestamente però insomma sì non mi era piaciuto tanto con la regina mi è piaciuto di più con il Vicenza deve prendere un po' confidenza anche con sì sì no ma certo per carità poi insomma il portiere è sempre il ruolo più delicato di tutti se vai al portiere non c'è rimedio ecco è l'unico ruolo in cui non ci può essere rimedio tanto abbiamo quattro minuti di recupero quattro minuti di recupero ma sta uscendo Luca Mora che era entrato e non capisco bene il perché anche perché ha fatto una buona prestazione aveva fornito anche un attimo assist no è entrato da venti minuti era entrato Luca Mora sì sì è vero per cui non se voleva concedere qualche minuto Dorazio infatti non se la prende neanche particolarmente Mora perché no quello la partita è andata se voleva dare qualche minuto Dorazio no quello quello che non vorrei quello che non vorrei che avesse chiamato il cambio lui perché per motivi fisici è quello che mi preoccupa perché comunque è entrato bene è entrato dal 66esimo ha giocato metà tempo comunque è uscito correndo quindi in teoria non dovrebbe essere nulla di grave nel caso sì no mi sembrava che stesse bene ecco no sì mi ha fatto un po' strano questo questa con questa sostituzione tutto uguale comunque Dickman ancora in avanti anche noi corriamo dai fino al novantesimo poi un tiro adesso tutti cercano il gol tutti cercano la conclusione impossibile si adegua Dorazio in questo momento intanto si il cronometro va avanti due palloni in campo il portiere è costretto a farsi una ventina di metri di corsa quindi si perdono altri secondi bene così se vuoi provare Dorazio magari fai scendere Vido al novantesimo che ha fatto anche gol si prende anche gli applausi sì sì ci sta mi sembrava la scelta più logica ecco certo è atipico a prescindere sostituire un giocatore subentrato sì no ma un giocatore subentrato che ha fatto bene anche perché non cioè magari entrano giocatori fuori partita si è visto ecco a volte magari anche gente cambiata dopo 10-15 minuti però uno che entra bene che ti fa anche l'assist ragazzi giusto per evidenziare il fatto che siamo un po' in ritardo rispetto a altre partite Portenone Monza già finita 4-1 per il Monza e quindi insomma però la spalla in avanti Nicola è gran gol è grande eccolo il quinto gol 5-1 vedi il quinto gol che dicevano è Colombo che si sblocca segna 5 bravo vai è un chi mi fai 5-1 il quinto spettatore però si si ci ha preso e adesso la cabala si è effettivamente avverata però premio anche al telespettatore bisogna premiare adesso non mi ricordo chi l'ha mandato perché tantissimi messaggi però prima del posto ha detto che la Pernale è una squadra che può subire o fare 5 gol è vero sentiamo anche la voce di Renazzo il buon Agnelli no ma ha fatto gol Vido si si ha fatto gol Vido comunque è vero ho uscito Colombo dallo studio non ha fatto no no avevo pensato io Colombo che si fosse sboccato invece è un bel gol ha fatto Vido ha fatto doppietta Vido ragazzi se io fossi a compilare pagelle per qualche testata gli darai 8 e mezzo due gran gol un assist da fare di vedere alle scuole calcio questa sera abbiamo visto uno dei Vido forse migliore degli ultimi mesi che anche l'anno scorso magari sembra un po' inceppato questa sera ha avventurato la missione veramente nelle condizioni di fare la differenza e questi ragazzi i numeri se li ha 5 a 1 si vince come quando mi amico col Pordenone diciamo che la Spal vince poco in casa ma quando vince fa dei gol ecco no bella vittoria bella vittoria sono molto contento adesso come ho detto prima testa Parma perché comunque dopo tanto tempo è un po' un brodino caldo che ci aiuta ma la strada credo che sia ancora lunga ecco però anche il fatto che l'Alessandria stia perdendo insomma è un dato positivo per noi insomma per la nostra classifica comunque ragazzi stiamo attendendo il fischio finale oramai è semplicemente un pro forma mancano pochi secondi e poi potremo ufficialmente festeggiare questa vittoria netta qui stanno arrivando ci state scrivendo è un messaggio al secondo guardate non riesco a starvi dietro però mi fa piacere vedere tutto questo entusiasmo da parte del nostro pubblico c'è chi dice esagerati con la faccina che sorride e poi tanto tanto altro che poi adesso un po' la volta leggeremo ecco ragazzi ufficialmente finita 5 a 1 beh insomma che dire una mega gioia da condividere questa sera la stavo guardando anche c'era una telespettatrice o un telespettatore che compieva gli anni domani un ottimo regalo sì esatto ce l'ha detto prima no allora leggo però questo messaggio per Fogli che dice Max quando ti ho visto ancora elegante mi sono detta ma allora vuole proprio che la Spal perda ha visto le due precedenti partite ma non c'è due senza tre stavolta non vale ecco quindi il cravattino il cravattino nero ricordo che era andato a punti anche l'altra volta diciamo ad Agnelli Agnelli qua che stavolta e Luca ha portato fortuna invece ha cambiato diciamo che è il papillon che non porta bene ma guarda ti dico io queste cose si credo poco della fortuna della sfortuna sono cose che sono molto anni 60 io credo quelli che in capo danno tutto e danno il sudore il sangue per la Spal così si vince con gli abbigliamenti e gli oggetti puntano veramente poco secondo me va bene allora intanto il cartellino del VAR però quello è te lo ho detto Fede c'è qualcuno che ha scritto anche? allora una grande Spal questa sera bellissima partita grande prestazione una Spal così bella non me la ricordo da tanto tempo allora non sono scarsi questi giocatori Andrea Di Ferrara ecco adesso salta fuori subito questa valutazione ma allora che squadra abbiamo ma allora che allenatore abbiamo cioè perché poi fino a sabato era una squadra una squadraccia tutto quello che vuole adesso invece insomma ci si rivaluta tutto questo questo discorso ma dobbiamo salvarci adesso che adesso non fermo a fare già discorsi playoff e tutte queste cose qua adesso pensiamo a mettere tutti i vari tasselli scusa se ti interrompo saluto Marco Mariotti dietro le quinte che sta sorridendo anzi sta ridendo di brutto proprio ce l'abbiamo fatta Marco quindi lo salutiamo che ha seguito dietro le quinte con noi la partita ciao Marco e tra l'altro qua un ultimo messaggio è arrivato dice con le mani con le mani ciao ciao e con la manina così effettivamente mano piena oggi manita mano piena proprio manita cinque gol che dire bisogna essere molto contenti oggi la partita è stata una partita tendista nei primi minuti da parte della spalla ma tendenzialmente lo è stato un po' per tutti i 90 poi ci pensiamo perché comunque abbiamo sempre atteso un po' l'avversario l'abbiamo sempre aspettato e poi l'abbiamo colpito in contropiede la scelta si è rivelata più che vincente dato anche risultato di grandi dimensioni perché 5 a 1 certo non può cadere ragione all'allenatore sentiamo Matteo cosa dicevi no una cosa che c'entra poco per la spalla però sono obbligato a farlo perché è una grandissima fase di telestense anche la tua miratrice che guarda sempre in telegiornale devo fare gli auguri assolutamente a mia zia Agnelli Nellì che fa gli anni oggi e l'avevo promesso e gli faccio tanti auguri per il suo compleanno 22 0 2 22 come siete tutti tanti auguri allora come si chiama hai detto? allora il suo nome originale non me lo ricordo devo essere onesto ma come? la zia davvero di moda il nome d'arte vabbè quindi il nome d'arte qual è hai detto? Agnelli Nellì Nellì va bene ok allora un po' come l'artista capisci? ascolta Matteo ti do un compito da qui a sabato indaga su come si chiama che se lo diciamo in onda pensa che ci guarda sempre guarda tutti i programmi di telestense quindi era veramente dovuto fanatica proprio vabbè allora indagherò indagherò allora cara spettatrice facci sapere come ti chiami che è tuo nipote ma pensa a te che roba vabbè no ma il nome è Nellì il nome è Nellì dopo non so se devo indagare se il suo vero nome no è non me lo ricordo ok tu chiedi l'altra Matteo tu Matteo Langone hai qualche parente di cui non sai il nome oppure devi anche tu lanciare un appello mamma Donatella e papà Francesco detto Franco vi ricordo ancora i vostri nomi bene siamo a posto vabbè comunque ragazzi a questo punto abbiamo ancora qualche minuto insomma da spendere in commenti c'è l'ufficialità della sconfitta dell'Alessandria ah ok giusto è finita anche Alessandra Perusa 1 o 2 per cui abbiamo 4 punti sull'Alessandria perfetto sì Ricola volevo rispondere al telespettatore per chiudere sì la spalla è forte o è scarsa cioè ci sono tante sfumature nel senso sicuramente la spalla è discontinua perché non ci ha dato ancora un segnale forte di poter essere squadra oggi ce lo ha dimostrato oggi ha fatto una grande prestazione contro un avversario che sulla carta era comunque di una portata superiore perché in classifica stava davanti come diciamo sempre i numeri non mentono mai certo vediamo se adesso il lavoro che è iniziato con Venturato che nelle prime giornate non ha portato i suoi frutti magari può avere una costanza e può salvare questa spalla nella maniera più tranquilla possibile perché accetto tutti i proclami che ci sono andiamo ai playoff perché si è dito una partita con 5 gol di scarto però teniamo i piedi per terra e continuiamo a fare dei punti per sistemare la situazione che si era compromessa questa è l'unica cosa importante adesso poi vedremo in seguito con l'anno prossimo se ci saranno le possibilità di avere i fasti di un tempo però teniamo i piedi per terra non so se abbiamo perso Agnelli è rimasto è rimasto bloccato è rimasto bloccato niente è rimasto fermo sembra una posizione il 5 a 1 l'ha sconvolto Matteo non so se ti riusciamo a recuperare ma insomma felice sarai un pochino in tilt diciamo dopo questa vittoria netta no allora io ve lo chiudere ragazzi con un'ultima domanda buttiamola lì ecco sabato Parma Spal tra l'altro pensate che prima parlavamo proprio quando eravamo in pubblicità quando c'era il TG se non sbaglio del Parma Spal di due anni fa che fu l'ultima partita prima del lockdown e quindi una partita anche molto sofferta da questo punto di vista e insomma si torna a Parma una partita un derby che è sicuramente molto sentito prima l'abbiamo visto anche da parte di alcuni parmensi o parmigiani si dice parmensi tifosi parmensi si dice parmensi parmigiani tutti e due parmensi tifosi forse parmensi città parmigiani gli abitanti e parmensi tifosi credo penso che possa andare bene entrambi abbiamo già un mistero da chiarire da qui a sabato comunque insomma come la vedete Parma Spal a prescindere da come si chiamano gli abitanti aspetta che c'era Matteo che ne stava ridendo no la vedrò su Telestense vi seguo da casa eh? vi seguo da casa su Telestense ti stai guardando in questo momento? no no Parma Spal guarda ti devo dire la verità oggi Venturato mi ha stupito faccio i complimenti perché è stato umile e ha schierato una formazione come si diceva prima chiusa dietro e per poi giocare di ripartenza cosa che non è usuale in casa però ha capito che forse era il modo migliore per intanto non prendere gol e contenere la Ternana che sulla carta arrivava favorita e poi per cercare di ripartire e fare qualche gol in questo è stato bravissimo secondo me Melchiorri ha giocato un'ottima partita forse non so forse anche sottovalutato dai difensori avversari che non si aspettavano un attaccante di questo tipo però meglio per noi e per quanto riguarda posso dire una cosa adesso non me ne voglio il presidente però Tacopino è volato in America 5 gol e per quanto riguarda l'hai detto tu è un dato di fatto è un dato di fatto sono tornato io è andato via lui 5 gol e per quanto riguarda la partita contro il Parma sicuramente adesso c'è più ottimismo rispetto a 90 minuti fa probabilmente si giocherà nella stessa maniera cioè prima si cercherà di non prendere poi si guarderà a segnare gol però adesso c'è più entusiasmo anche dalla parte dei tifosi penso che sarà un'altra una trasferta molto molto sentita quindi dai ottimismo almeno fino a sabato beh bisogna fino a sabato le due carichi vi voglio carichissimi carichissimi allora intanto devo ringraziare Davide di Salso Maggiore che ci scrive dice parmigiani gli abitanti di Parma parmensi gli abitanti della provincia attenzione ma direi vero non è la prima volta invece che la sento dire io cioè non mi stupisce questa cosa se lo dice uno che abita in provincia di Parma ci crediamo è assolutamente vero grazie Davide allora i tifosi come si chiamano? ecco allora Davide abbiamo ancora qualche minuto dicelo subito così chiariamo voi invece che cosa pronosticate per o cosa vi aspettate? no non dico pronostico però sono difficili da fare cosa vi aspettate? una reazione della squadra dopo questa vittoria? mi aspetto una conferma dal punto di vista del gioco e anche del risultato chiaramente non c'è la pretesa di andare a Parma a vincere 5 a 1 come oggi però se lo fanno però anche 1 a 0 il novantesimo o portare a casa comunque un risultato positivo a me andrebbe bene anche un pareggio te lo dico perché in virtù di questa vittoria per dare continuità di risultato tu torni a firmare per un pareggio no io no eh però ricordo che all'andata col Parma dove eravamo qui c'era caldo perché era una stagione differente portammo a casa un pareggio al novantaquattresimo insperato dove a 5 minuti dalla fine con un gran gol di Colombo stavamo perdendo 2 a 0 con un gran gol di Colombo esatto e guarda riconfermare un 2 a 2 in virtù di questo risultato a me andrebbe bene vabbè comunque io aggiungo che è anche molto interessante la classifica che stavo guardando perché noi siamo andati a 27 e il Parma è a 29 per cui no appunto non c'è questa distanza no pare che non c'è molta distanza però non sia mai che vinciamo a Parma lo superiamo anche lo superiamo anche in classifica certo perché noi a quel punto andremo a 30 e il Parma rimarrebbe a 29 però possiamo giocare insomma anche perché comunque quando vinci acquisisci più più sicurezza insomma in te stesso e nei tuoi mezzi e quindi anche maggiore autostima possiamo attentare questa impresa perché insomma comunque vincere in trasferta a Parma secondo me è una bella impresa allora intanto mi avete o abbiamo comunque scatenato tutto il pubblico di Parma perché c'è un altro che dice parmese riferito alla provincia parmigiani ai cittadini della sola città un altro dice i tifosi sono i parmigiani e un altro ancora dice che qua torniamo a Davide i tifosi si chiamerebbero parmigiani ma viste le belle figure recenti non si chiamano affatto e qua direi che lo possiamo chiudere su questo allora io ragazzi vado per i saluti intanto Fede ti ringrazio grazie a voi bellissima partita ho visto che nel weekend sei andata a divertirti invece a Venezia sì sono andata a Venezia a fare un bel giro molto bella la città bellissimo tutto il carnevale vero c'era adesso? sì sì c'era il carnevale va bene allora se ci torni prossima volta allora voglio dire del carnevale di Venezia mi manca da anni mi manca da anni comunque Fede grazie mille grazie a voi e insomma come avrai visto ho tanto pubblico che saluta anche te come sempre con affetto ricambio con affetto anch'io ok allora noi siamo in conclusione quindi ringraziamo di nuovo intanto Matteo Agnelli che ci ha salutato per una disconnessione per forza maggiore lo salutiamo comunque grazie Matteo Langone e al suo cartello con scritto VAR grazie mille eccolo qua adesso troviamo il posto dove appenderlo anche in studio ma vedi tu te lo puoi portare anche a casa diventa il feticcio diciamo grazie Max Fogli grazie a te Nicola grazie a voi Max Rizzati ovviamente grazie a te Nicola grazie a tutti e poi ringrazio Massimo Storiari e Agnesio Rinaldo che sono in regia e quindi anche loro ci hanno supportato e niente Fede ti salutiamo alla prossima grazie salutiamo tutto il nostro pubblico buona serata vi ricordo tra poco il Tg Integrale questa volta con Luca Veronesi per quello che riguarda l'informazione da Ferrara e Provincia buona serata a tutti e alla prossima questo programma è stato realizzato in collaborazione con le stagioni d'Italia le stagioni d'Italia giara assicurazioni studio Petrillo Pasquali Riccardo restauri e tinteggiatura naturale gelato e cioccolato iniziò a dar una volta ecco a tutti i nostri spettatori i nostri spettatori